In collaborazione con Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza nell'autonoleggio I Due Re Ristorante e pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Dental City Studio Dentistico Specialistico e CityMed Poliambulatorio Specialistico Via Mainini 79 Montecassiano Grazie a voi tutti di averci seguito Appuntamento alla prossima settimana Grazie a tutti Buonasera a tutti cari amici Benvenuti al 32esimo appuntamento stagionale Con la nostra trasmissione Questo fine settimana calcistico Si è aperto venerdì Con il raggiungimento da parte dell'Ascoli Con una giornata di anticipo Di una salvezza assolutamente insperata Forse nei sogni di Sara Santacchi Per come stava evolvendo il campionato Prima di Natale Domani ci sarà la chiusura della stagione A Verona contro il Chievo Poi si inizierà a programmare il futuro Che si spera sia meno sofferto E dall'altezza delle ambizioni Di una piazza Che vale la pena ricordarlo Si appresta ad affrontare Nella prossima stagione Pensate il 25esimo torneo Di Serie B Oggi invece era la giornata Del derby playoff di Serie C Tra Matelica e San Benedettese Di cui ci occuperemo ampiamente Nella seconda parte Della nostra trasmissione È ripreso il calendario regolare Di Serie D Con la capolista Campobasso Fermata sullo 0-0 Sul campo di Re Canati Mentre reti inviolate Anche nel derby di Porto Sant'Elpidio Tra i parroni di casa In netta ripresa Del Castelfidardo Il Tolentino rimedia Un 2-2 rocambolesco In casa contro il Matese Mentre per quanto riguarda Il Monte Giorgio È arrivata la sconfitta 2-1 sul campo del Giulianova Poi come sempre Con Giuliano Gubinelli Approfondiremo il tema eccellenza Con le gare della quinta giornata Nei due gironi Con un fossombrone Davvero in grande spolvero E l'Anconitana fermata Sullo 0-0 Sul campo di Montefano Ciao Sara Buonasera a tutti Parliamo subito degli ospiti Questa sera abbiamo il piacere Di ospitare la Vispesaro Con Guerrino Amadori E Daniele Bedetti Ben ritrovati Grazie Buonasera Buonasera a tutti Proprio il caso di dire Ben ritrovati Guerrino Amadori È il direttore affari generali Della Vispesaro Mentre Daniele Bedetti Ha affiancato Mister Didonate In questa avventura Sulla panchina Della squadra Bianco-Rossa Guerrino Era un campionato Che diciamola proprio tutta Ad un certo punto Stava prendendo una piega Abbastanza brutta E spesso nel calcio È anche arduo Rimediare 18 punti Ho fatto una botta di conti Nel girone di andata 23 in quello di ritorno Dove ci sono state Delle vittorie Direi determinanti A Cesena Carpi e Mantua Domanda a Bruciapelo Cosa ha determinato Questo cambio di rendimento Perché in effetto Un cambio di rendimento C'è stato Hai detto tutto bene Specialmente nella presentazione Quando nascono Questi campionati così Che le prospettive Dovevano essere Decisamente diverse È ben difficile Poi rimettere la barca In careggiata In riga È successo che La squadra ha fatto Degli aggiustamenti I presidenti Hanno fatto degli aggiustamenti La squadra ha fatto Quadrato I due mister Si sono calati bene Nella realtà E abbiamo avuto Anche nel girone di ritorno Sebbene abbiamo fatto Dei buoni punti Direi A parte la salvezza Che era Secondo me Un paio di domeniche Una domenica prima Salvarsi dai play out Era quasi incredibile Quindi per noi Il campionato Ha avuto un epilogo Diciamo soddisfacente Diciamo Secondo le aspettative Postume Si Questo mi piace Questa definizione Adesso volevo coinvolgere Daniele Beretti Che come ha detto È stato al fianco Di Donato Per tutto il campionato Secondo te Vista dal campo Daniele Qual è Come dire L'aggettivo Che fotografa meglio Questa stagione Come la definiresti Sofferta Sicuramente altalenante Comunque sufficiente Nonostante tutto Ma guarda La stagione La definisco In una parola Il gruppo Il gruppo Che si è formato All'interno dello spogliatoio Con la squadra Tra staff tecnico Giocatori Anche Tutte quelle componenti Che erano attorno Alla squadra Dopo la sconfitta Il legnago Lì è stata Forse il punto Un po' più basso Anche della nostra gestione Mi pare che era Il quarto K.O. consecutivo Forse Se non ricordo male Era un K.O. che comunque sia Era determinante Dato che Era una diretta concorrente Poi andavamo a meno tre Eravamo in completa zona Playout E lì Secondo me Anche grazie Anche comunque sia Allo sfogo Concedimi questo termine Dei tifosi Ricordo male 16 giocatori 16 giocatori differenti Anche se poi Ci ha messo Un grande timbro Manuel Di Paola Arrivato da Svincolato a novembre Con sette reti E aggiungo io Che reti Perché qualcuno È stata di notevolissima Fattura Tra l'altro Molto bene Anche il giovane E interessantissimo Cannavo Cinque reti Poi magari mi spendi Anche due parole Su di lui È stata un po' Questa prerogativa La vostra Proprio tecnicamente Quella di mandare Così tanti giocatori A bersaglio Una squadra In fondo Di media e bassa classifica Tra l'altro Ma non avendo Il Concedimi il termine Il bomber principe Abbiamo fatto leva Proprio sul gruppo Il gruppo Ogni partita Tutti quanti Si assumevano Le proprie responsabilità E poi Abbiamo un po' Cambiato anche Metodo di gioco Perché Mentre l'anno passato Ad Arezzo Adottavamo Un 4-4-2 O come piace al mister Dice 4-2-4 Molto offensivo Qua comunque sia Insieme al mister Abbiamo costruito Un vestito adatto Per questa Vispesero Che era un 3-5-2 Molto offensivo E molto aggressivo Che lavorava Sulle seconde palle Questo ha permesso A molti giocatori Di arrivare Dentro l'area avversaria E quindi Di avere l'opportunità Comunque sia Di andare A segno Cito semplicemente Una rete Di Cesena In cui Crossava Il quinto a destra Carissoni E faceva gol Nava Che era il quinto A sinistra Sì che ricordo Che arrivava sul secondo palo Che arrivava sul secondo palo Quindi un po' Il marchio di fabbrica Che il mister Ha voluto dare Nel rush Finale Perché poi Nell'ultimo mese Comunque sia Siamo stati dietro Solo Esclusivamente Alle prime della classe A livello di risultati Quindi ecco È stato sempre Il gruppo Comunque sia Ribadisco sempre Questa parola Perché Dentro lo spogliatoio L'abbiamo detta Lo spinimento Mi spendi due parole Per Cannavo Io non vi ho visto mai giocare E siete forse L'unica squadra di Serie C Che non ho mai visto dal vivo Perché non ne ho avuto L'opportunità Però qualche immagine Di Cannavo Mi ha colpito Insomma Veramente un ragazzo sveglio Insomma una promessa Tra l'altro è un 2000 Se non ricordo È un 2000 Sì Di proprietà dell'Empoli È un prospetto Molto interessante Secondo me Chi avrà La fortuna Di averlo in rosa Il prossimo anno Sicuramente Esploderà In questo campionato Qua Ha vissuto Un anno In cui C'erano tante difficoltà Perché Lottare per la salvezza Comunque sia Comporta tante difficoltà Però il ragazzo Ha dimostrato carattere E soprattutto Assumersi le responsabilità E poi Consideriamo Che si è guadagnato Il posto da titolare In mezzo a Giocatori Importanti Quali Gucci Marchi Germinale Tutti gli A Defeo Comunque sia Cioè Trovare spazio In mezzo a un parterre A un gruppo Di attaccanti Così È molto importante Forse Guerrini Il bomber Doveva essere Marchi Che era stato Un po' Il colpo estivo Ha avuto Diverse Molte vicissitudini Questo giocatore Quest'anno Sì È vero Però anche lui È stato vittima Di situazioni Difficili I giocatori Per esprimersi bene Al massimo Deve avere La tranquillità La squadra Vince il campionato Perde il campionato Per merito O di merito Anche E soprattutto Di chi Sta intorno Se si creano Delle situazioni Favorevoli Per rimetterli In condizioni Di giocare Bene Tranquilli Riescono Poi anche Ad esprimersi Meglio Ecco Forse Marchi ha subito Un po' Questa Defaianza Diciamo Societaria Dal punto di vista Così Emotivo Per me I giocatori Sono dei figli Anche se Marchi Poi E' uno dei più grandi Dei più esperti E non posso considerarlo tale Però come figli Vanno Educati Tirati su Coccolati Spronati Eccetera E questo diciamo Che quest'anno E' stato fatto A fasi Alterne Senti Io ricordo Che nello scorso Messe di agosto Venne nei nostri studi Vlado Borrozan Allora direttore generale Poi purtroppo Fermato da un grave malore A settembre scorso Contro il Legnago Disse Che era la vis Più forte di sempre Ed in effetti A Pesaro Sono venuti Quest'estate Gente come Giusto per fare nomi Uno è Marchi L'altro è Gelonese Dico io Una grande stima Insomma Per averlo visto Tante volte Nella San Benedettese Alla luce di questo Avete qualche rimpianto Perché comunque L'organico A mio avviso Non ha nulla da invidiare A qualche squadra Che ha raggiunto i playoff Io non sono in grado Di rispondere A questa domanda Perché ho avuto Degli incarichi Diversi Da quelli che Ho vissuto Gli anni precedenti Tu lo sai bene Perché siamo stati qui Anche in diverse situazioni Però diciamo Che era un po' Tutta la città Che ci credeva Questa situazione Ricordo anche La presentazione Che si fece Era all'insegna Di una Di un campionato Ambizioso Diciamo così Però come spesso accade Io dico sempre Difficile Vincere il campionato Anche in terza categoria In seconda E sto sicuro E ricordo Il campionato Della Ternana Di due o tre anni fa Quando noi siamo prodotti In Serie C Che qualcuno Provava a dargli Ti diamo le chiavi Della Serie B Non le giochiamo Le partite Che ricordi Che era E poi finì Come finì Quindi Sono una serie Di componenti Che quest'anno Diciamo Non ci hanno Sorriso Non sono andate bene Delle cose Ma L'esperienza Accumulata Ripeto E sottolineo La piega era brutta Soprattutto dopo Legnago E anche dopo Su dieci situazioni In questo genere Si retrocede nove volte Capito Per cui È un bel campionato Alla fine Per noi Sotto tutti i punti di vista Per la salvezza Per il risultato Raggiunto Una giornata prima Per aver mantenuto Questa categoria Che ci dà la possibilità Di lavorare Ancora A determinati livelli Perché il presidente Rimane molto motivato Rimane Sempre Diciamo Al centro Di tutte le nostre attenzioni Anche se lui È quello che Ci dà La sostanza Prima Ma soprattutto Le attenzioni Proprio No vicendevoli Per cui Poi parleremo Guerrino Della vostra struttura societaria Di un presidente Lontano Ma molto vicino E molto presente Anche di alcuni progetti Importanti Che state cercando Di portare avanti In una città Che va detto Davvero Pesaro Ha tantissime Opzioni sportive Chiamiamole così Adesso parliamo Andiamo dal nord Al sud Della regione Anche se Vispeso e Redascoli Sono legate Da un rapporto Diciamo così Di amicizia Che c'era E credo c'è C'è tuttora Guerrino Perché quella Compiuta Dall'Ascoli È stata un'impresa Che francamente Lo dobbiamo dire Cospargiamoci Il capo di cenere Non ci credevamo Nemmeno noi Ma non tanto Perché C'erano sei punti In quattordici partite Prima di Natale Ma già questo Era un motivo Abbastanza serio Per essere pessimisti Ma proprio perché Le sconfitte Venivano in un determinato modo Sembrava una squadra Preda Della rassegnazione Più totale Arriva l'allenatore Arrivano dei giocatori E la squadra È completamente Rivitalizzata E forse verrebbe da dire Peccato che il campionato Finisce domani Vediamo il commento Sul campionato Dell'Ascoli Con le immagini Chiaramente Della vittoria di venerdì Contro il Cittadella L'autonoleggio Alidama È il leader Nel settore del noleggio A breve e lungo termine La nostra flotta È costituita Da utilitarie Medie e alta gamma Per aziende Privati e professionisti Inoltre Disponiamo di van Minivan Furgoni Furgoni frigo E pulmini In nove posti Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza Nell'autonoleggio Un'impresa Inutile Utilizzare altri termini Impensabile Per l'Ascoli Ipotizzare la salvezza Con una giornata Di anticipo Dopo aver racimolato Sei punti Nelle prime Quattordici gare Ma non era solo La classifica Che a quei tempi Suonava come una condanna Era il trend Di sconfitte Che giungevano Puntualmente Dopo gare Contradistinte Dalla rassegnazione Ed un destino Che appariva Prematuramente Segnato Questo almeno Sino all'avvento Di Andrea Sottil Finalmente Un allenatore Motivato e di categoria Dopo le deludenti Esperienze Per motivi Comunque profondamente Diversi Con Bertotto E Deglio Rossi Ci ha creduto Lui E ci ha creduto Va detto il patron Massimo Pulcinelli Che ha rimesso mano Al portafoglio Rafforzando un collettivo Che dopo Natale Ha innestato Le marce altissime Dalla vittoria interna Con la spalla in poi Quel gruppo Con il morale sotto i tacchi Vittima delle proprie paure Ha lasciato il posto Ad una squadra Ferocemente determinata Che avrà avuto Anche alcuni passaggi a vuoto Ma che ha inanellato Risultati roboanti Inaspettati E soprattutto Grande Con le grandi Tutte Tranne la Salernitana Hanno pagato Dazio Di fronte alla sana Rabbia agonistica Di Bianconeri Dall'Empole al Monza Dall'Eccia al Brescia Piegati dalla grinta E dalla determinazione Del picchio Certo direte voi Gli arrivi del mercato Di riparazione Federico Dionisi In primis Autentico Leader e trascinatore Poi la qualità di Caligara Ha cresciuto tantissima La distanza Il dinamismo di Dorazio Le serpentine di Bidaoui Ma altri hanno reso Decisamente meno Rispetto alle aspettative Per fare qualche nome Stoi, Andanzi e Parigini Nei match decisivi 9 undicesimi Della formazione titolare Erano giocatori Che sono ad Ascoli D'Agosto Morale del discorso La squadra allestita in estate Potenzialmente Non era assolutamente Da buttare Con gli ingaggi di Sabiri Baic Kragl Saric Buche Lavlonitis Eccetera C'erano diverse situazioni Da limare Ma soprattutto Erano individualità Da amalgamare E rivitalizzare Dopo una partenza Scioccante Per mille motivi Ecco perché Il primo artefice Di questo isperato obiettivo È stato proprio Sottil D'altronde Estremamente rimpianto Ad esempio a Pescara E da quelle parti Il divorzio Ha portato ad un Turbillon di allenatori Oddo Ad Ascoli Piceno A partire dalle 20.50 Una domanda Daniele Sull'Ascoli Non so se tu eri Tra i pessimisti Oppure comunque Coltivavi un filo di speranza Ma in effetti Ad un certo punto Della stagione Era molto complicato Essere ottimisti Perché il trend Era veramente disastroso Allora Dell'Ascoli Se ne parlava Perché come tu ben sai Mister Daniele Di Donato È stato una bandiera Dell'Ascoli Quindi All'interno dello spogliatoio Parecchie volte Si commentava Comunque sia La situazione Dell'Ascoli Questi risultati Che erano altalenanti Giudicare la stagione Dell'Ascoli Bisogna essere sempre All'interno Comunque sia Per capire Quali erano le problematiche Oggi resta La felicità Che comunque sia L'Ascoli Ha mantenuto la categoria E quindi È sempre un punto Di riferimento Per la regione Marche Dal punto di vista Comunque sia Delle squadre Che oggi ci sono Quindi Col mister Si commentava solo Esclusivamente risultati E vedevo in lui Qualche volta Il dispiacere Perché Mi pare Daniele 207 presenze Nell'Ascoli Dal 2007 Al 2013 Credo Più o meno Quindi insomma È stata veramente Una bandiera Dell'Ascoli Io Mi chiedo anche Come Di Donato Da giocatore Abbia così Poco calcati I campi di Serie A Però questo È un mio pensiero Ma Il mister Il mister È una persona Talmente Schietta Da un punto di vista È buona Dall'altro Forse Troppo buona Sotto certi punti di vista Che non gli ha permesso Muari Di calcare Palcosceni Ben più Importanti Mi pare che sia Daniele Non vorrei sbagliare Il terzo giocatore In assoluto Per presenza In Serie B Sì Lui Le sorti Però All'interno Dello spogliatoio Quando ci si confronta È sempre costruttivo In ambe due le parti Insomma C'è gerarchia Ma anche democrazia Sì sì C'è gerarchia Ma anche democrazia E questa Questa cosa qua Secondo me È un valore aggiunto Che oggigiorno Per me Porterà con sé Nella sua carriera Mister Di Donato E spero io Di seguirlo Più in alto possibile Poi mi dirai Anche qualche caratteristica Di questo allenatore Io volevo tornare Da Guerrino Amadori Che diciamo Come carica istituzionale È direttore Affari generali Della Vispesero E volevo parlare Guerrino Della vostra struttura societaria Che per certi aspetti È particolare C'è Mauro Brosco Che è il presidente C'è Marco Ferri Che è una figura storica Che lo affianca Poi mi parlerai Della figura Del direttore sportivo Che è un ruolo Che in questo momento Manca E che credo Provvederete Insomma Rimpiazzare Dopo la dipartita Sportiva Ovviamente Di Crespini Noi abbiamo L'impressione Qualche volta Che il presidente Che viene da fuori Non sia molto presente Ma tu Puoi smentire Categoricamente Questo luogo comune Guarda La prima parte Della domanda Non posso risponderti Perché non Non ho potere decisionale Come ai tempi Della gestione Ferri Che con Ferri Avevamo un rapporto Diciamo Ottimale Che continua Alla seconda parte Della domanda Ti rispondo Molto Molto Sinceramente Molto Chiaramente Perché Devo contraddirti Perché il presidente È presente Contrariamente Ai vecchi presidenti Che erano di passaggio Pesaro La sua presenza C'è sempre Se non lo sentiamo Per telefono Lo troviamo lì Il giovedì Il venerdì All'allenamento Del sabato pomeriggio Spesso Ti dirò di più Che è uno dei pochi presidenti Insieme a Ferri Che va a vedere La primavera La primavera È andato anche fuori casa Il presidente A seguirla Questa è una cosa Immensa per noi Perché vuol dire Che crede Nei giovani Come ha sempre detto Perché sai Il conto è dirle le cose E poi il conto puoi farle Il presidente nostro È un grosso imprenditore italiano Ha tanti cantieri In tutta Italia E trovare il tempo Per andare a vedere La primavera Mi sembra una cosa Un po' sopra le righe Al di fuori Di questa cosa Ma si è veramente Innamorato Di questo Di questo Di questo posto Chiamiamolo così Non voglio chiamarlo Progetto Non voglio chiamarlo Situazione Ma si è innamorato Di questa città Che dal punto di vista Del supporto Dei tifosi È calorosa Dal punto di vista Dei dirigenti C'ha Ferri Che ha un cuore Grande come Non lo so Per tutte le sofferenze Che ci siamo portati dietro Per tutti i successi Che abbiamo raccolto Una società sana Anche dal punto di vista Economico Quando l'ha rilevata Un settore giovanile Fiorente Un progetto Che adesso Sta prendendo corpo Sicuramente Grazie a lui Ma se non altro Però ti ricordi Che ne abbiamo parlato Anche due o tre anni fa Poi ne parleremo In maniera più diffusa E quindi Ha tutte le componenti Buone per far bene Cioè Proprio per questo Che io mi permetto di dire E scusami se sono Chiacchierone Ma del resto Sono talmente vivo E talmente preso Da questa situazione Che E come posso dire E come posso dire Il futuro della Vist Non nasce dalla vittoria Del campionato di serie C Questa è una mia impressione È una mia sensazione È un mio credo È un mio pensiero Nasce dalla costruzione Delle basi E le basi E le basi sono Le strutture Sono i campi Sono la città Che è disponibile Ad aiutarti A stati vicino Ognuno per le proprie competenze E da lì Il lavoro Di tecnici bravi Professionali Che tirano sui ragazzi Che non abbiamo Non dovremo più Aver bisogno Di andare a prendere fuori Il prodotto locale C'è C'è stato In serie A Ci sono tantissimi Giocatori Di Pesaro O di Intoni Della provincia Anche Sensi Mi pare che abbia vinto Il campionato Mi pare che vieni da Urbani È di Urbino Non sto scherzando Non mi pare Lo so Però non vogliamo parlare Di Ambrosini Vogliamo parlare Del mister dell'Atalanta Gasperini Ne abbiamo avuti tanti E ne avremo tanti Perché la passione Ce n'è da vendere Allora costruiamo le strutture E portiamo avanti Insomma Mauro Brosca È un tesoretto Da custodire Genosamente Gli faremo un monumento Io credo Solo che è giovane E non lo potrò vedere Questo monumento Senti Vabbè Su Crespini Insomma Sulla figura del direttore sportivo Il presidente Lavora 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 Secondo me È già a buon punto Poi da lì nasceranno Tutte le altre cose Non sono in grado Di rispondere a questa domanda Senti invece Abbiamo sentito e letto Parlare molto Di Cittadella Del pallone Che forse In questo caso Tu puoi parlare Davvero con cognizione di causa Ecco Vogliamo spiegare A chi ci segue In che cosa dovrebbe Consistere E a che punto siamo Con questo progetto Che mi sembra Sia una sorta Di partnership Tra il privato Ed il pubblico Esatto Si chiama un progetto Di Un financing Solo che Si è protratto Per tanto tempo Perché a Pesaro Non è mai stato fatto Un affidamento Con un financing Per cui Le situazioni Diciamo Di copertura Di garanzia Si sono protrate Talmente tanto Che Ci ha portato Ad arrivare Molto probabilmente Sarà lunedì No Oggi è domenica Domani In consiglio comunale Passerà Questa 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 delibera Anche se sono un consigliere comunale Non ho la terminologia Dei politici Perché non è cosa mia E quindi Ci sarà un bando di concorso Ai quali potranno partecipare tutti E Trascorsi i termini di legge Si potrà assegnare Al vincitore All'assegnatario Che dovrebbe essere Speriamo Ci auguriamo Mauro Bosco Con le sue Con le sue Con la sua Azienda A costruire Questo Questo centro Il nostro progetto È già vivo È già Presente Ne abbiamo già parlato Si tratta di Rimettere mano Come già ti dicevo Tre anni fa Alla struttura Di Villa Fastigi Due campi Un campo In sintetico E un campo Misto Un altro campo Calcio a 5 Poi altre strutture Per il padol Un ristorante Una palestra Tutta Il centro dirigenziale Ecco la base Che dicevi Insomma Esatto Poi seguiranno altre cose Altre collaborazioni Con altre società Sarà tutto Un divenire Perché poi Da lì partiranno Tanti altri progetti Che coinvolgeranno Le società di calcio E tutta la provincia Vedrai Io voglio coinvolgervi Anche in un altro discorso Che è stato un po' L'argomento caldo Di questa settimana Lo dico a beneficio Dei nostri telespettatori La notizia è che Nella prossima Coppa Italia Ci saranno soltanto 40 squadre Quelle di serie A E di serie B Esclusa La D Esclusa soprattutto La serie C Tra i fulmini Diciamo così Inevitabili Del presidente Di Lega Ghirelli Quando per esempio E questo lo dico io Una delle fortune storiche Della Coppa d'Inghilterra È il Tottenham Che va a giocare Nel campo del Marin Che è una squadra Di ottava divisione Faccio una botta di conti L'ottava divisione È equivalente Alla nostra seconda categoria Un pensiero in merito Su questo? Sarebbe una cosa stupenda Strepitosa Anch'io adoro Questo genere Di competizione Dovremmo Dovremmo copiarla Sì perché Parterebbe il calcio In tutta In tutta la provincia Italiana Non parlo di quella Pesarese Poi sarebbero Altri stimi E un po' L'esatto contrario Della Della Superlega Della Superlega Esatto È il calcio che ci piace È il calcio che ci piace Io non so se tu hai visto Proprio questa partita Del Tottenham Giocata a Marina Che era un soborgo Di pescatori Con tutte le villette Attorno Tra l'altro è finita Anche 4 a 0 5 a 0 Non è che è stata proprio Una goleata totale Però portare il calcio Veramente nelle frazioni È il fascino vero Del calcio Quindi io farei Una Coppa Italia Senza sorteggi Dalla prima Alla seconda categoria Per cui L'Atalanta Un giorno Potrebbe andare a giocare A Villa Fastigio A Cattabrigo Non so neanche io Non so anch'io dove Questa esclusione Non so Daniele Tu ti ha detto alle ore Che pensi su questo? Io credo Che stiamo privando Dei sogni Tanti ragazzini Che vogliono fare I calciatori Ponendo questi vincoli Perché Oggi Io ricordo Semplicemente Il giorno Che Roberto Mancini Quando guidava L'Inter È venuto a Iesi E c'erano 9000 persone Allo stadio Carotti Facendo questa scelta Che sarà stata Ponderata Secondo i vertici E via dicendo Però Togliamo I sogni Alle nostre leve Ma sì La promozione del calcio Si fa così Adesso mi viene in mente Se non sbaglio Il Calais Che arrivò in finale Di Coppa di Francia Qualche anno fa Partendo veramente Dalle divisioni minori Cioè Tutti debbono avere Una chance Una possibilità Noi lo dobbiamo Lasciar perdere Almeno questo è il mio pensiero All'esempio nordamericano Le leghe chiuse Abbiamo avuto ospite Tra l'altro Venerdì Il direttore generale Del Fenerbahce Istanbul Una squadra di basket Una polisportiva A livello stellare Quello è un sistema Che Si adatta male Al nostro modo di essere Alla nostra storia La nostra storia Calcistica E anche Di europei Dobbiamo dire così È legata anche a questo fatto Cioè Il Calais Che arriva in finale Di Coppa di Francia Ha una squadra Di ottava divisione inglese Che se la può giocare Contro il Tottenham Di Murigno Questo è il fascino Del calcio Però Così è E ci adeguiamo Anche se Come diceva Maurizio Ferrini Non capisco Ma mi adeguo Dobbiamo fare in questo modo Adesso Vediamo intanto I risultati Della giornata Di Serie D Girone F Poi chiaramente Man mano Andando avanti Con la nostra trasmissione Vedremo i servizi Su questo campionato Giunto Alla ventottesima giornata Anche oggi Dobbiamo registrare Due rinvii Vediamo comunque Il quadro Di risultati Che sono maturati Nel pomeriggio Cinzia Albalonga Atletico Terme Fiuggi 2 a 2 Porto Santelpide Castelfidardo 0 a 0 Pineto Batte Olimpia Agnonese 3 a 1 Real Giulianova Batte Monte Giorgio 2 a 1 Re Canatese Campobasso 0 a 0 Tolentino Matese 2 a 2 Vastese Batte San Nicolò Notaresco 2 a 0 Sono state rinviate Le gare Rieti Aprilia E Vasto Girardi Castelnuovo Vomano E quindi Il Campobasso Come vediamo Dalla classifica Allunga Più 6 Sul San Nicolò Notaresco Nonostante il pareggio Di Re Canati A seguire Cinzia Albalonga 45 Castelnuovo Vomano E Matese 42 Re Canatese Pineto Castelfidardo 39 Monte Giorgio 36 Vasto Girardi E Vastese 35 Aprilia 34 Tolentino 33 Rieti 31 Atletico Terme Fiuggi 30 Real Giulianova 25 Porto Santelpidio 7 Chiude L'Atletico Chiude L'Olimpia Agnonese Con 5 punti In classifica Ci sono sempre Tantissime gare Da recuperare Chi è messo peggio Da questo punto di vista È il Vasto Girardi Il Porto Santelpidio E l'Olimpia Agnonese Che debbono Recuperare Ben 4 partite L'unica squadra Che ancora È a partite piene Quindi non ha Nessun recupero Da onorare È il Cinzia Albalonga Daniele Non so se segui E quanto questo campionato Però oggi è stata Una giornata importante Perché il notaresco Perde a Vasto Il Campobasso Pareggia Tra poco Vedremo anche il servizio Una partita molto difficile Alle Canati Più 6 La strada Sembra veramente tracciata Penso che Il Campobasso Abba buttato Già da parecchio tempo Le basi Per fare il salto Di categoria Quest'anno Si è presentato Il San Nicolò Come antagonista Però Penso che oramai Il passo Sia quello Che porterà Il Campobasso Alla vittoria Del campionato Noto La vastese Che ha vinto 2-0 Dove c'è Un giovane Interessante Di proprietà E la vispeso O blu Del 2002 Che già ha realizzato 5-6 gol Quindi Che vi riprenderete Sicuramente Quello è Questo dovrei Questo sicuramente Sarà Ho capito Chi è un ragazzo Molto interessante Tanto per rimanere In tema Su giovani Interessanti Che comunque Ci sono Assolutamente Sì Allora Da un presidente All'altro Da Bosco A Massimo Pulcinelli Sentiamo la sua gioia Abbiamo un estratto Delle sue dichiarazioni Più importanti Veramente Ha sofferto tantissimo Pulcinelli Ha rimesso Ripeto Mano al portafoglio Perché Ha dovuto Ridisegnare La squadra Io Gli faccio Un grande augurio Insomma Di non ripetere Certi errori In precedenza Di considerare Questo tesoretto Tra allenatore E giocatore Che ha a disposizione Per cercare Di costruire Una squadra All'altezza Della grande Tradizione Bianconera Sentiamo Massimo Pulcinelli Una pizza Che non si scorda Il piacere Di ballare Il luogo giusto Per ritrovarsi Con gli amici È lo chalet I due re Ristorante Pizzeria A Civitanova Marche Un compleanno La laurea O semplicemente La voglia di stare insieme In un ambiente Che fa spettacolo I due re Ristorante Pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Io ho già ringraziato Tutto lo staff Tutto il gruppo Tutto il popolo Scolano Tutto il mondo Intero Ringrazio in modo particolare Quelli che ci hanno criticato Perché sicuramente Sono stati più stimolanti Quelli che ci hanno In qualche modo Messo La voglia maggiore Di fare poi questo risultato Ci hanno stimolato Al punto giusto Perciò Un ringraziamento particolare A tutti coloro Che ci hanno criticato Il momento in cui La fiducia ha vacillato È quando abbiamo fatto 15 partite E 6 punti Quando con il secondo allenatore Abbiamo fatto 6 partite E un punto solamente Lì la fiducia Ce n'era davvero poca Però In quel momento Soprattutto Con questo signore Qui a fianco Ci siamo rimboccati le maniche Ci siamo messi sotto Al lavoro Se poi Pensiamo Che questa squadra La squadra che stava in campo Oggi 9 undicesimi Fero già Perciò Tutto sommato Poi Non era stata fatta Una cattiva Un cattivo lavoro Però È stata fatta Sicuramente Una cattiva gestione Sottile Il DS Polito Ora al suo fianco Saranno le basi Per la prossima stagione? Credo di sì Non Non c'è motivo Per cui Aver dubbio Su questo concetto È evidente Che Sottile Ha inciso molto Hanno inciso La coppia Sottile Polito Sicuramente Come capi Di questo gruppo L'anno Sono riusciti Chiaramente A mettergli Una logica positiva Sicuramente A motivarli E a toccarle Leve giuste Credo Che il calcio Insegni tante cose Soprattutto Di imparare Dalle sconfitte E siccome Di sconfitte Qualcuna Ne abbiamo avuto Anche nella gestione Sottile Polito Anche da quelle Credo che loro Siano stati bravissimi A gestirle Sicuramente Se c'è un pizzico Di rammarico Questa squadra Non è stata costruita Per salvarsi Questa squadra Era stata costruita Per raggiungere Un obiettivo Di centro Media classifica Cioè di raggiungere I playoff Questo era Sia il budget Che ci siamo dati Che gli investimenti Che abbiamo fatto Che il nostro Credo Però poi Se tu sbagli Le pedine fondamentali Perché così è stato Ma non è che le sbagli Perché quelle persone Non sono capaci Non sono riuscita A costruire il gruppo E di conseguenza A tirar fuori L'energia Che questi ragazzi Avevano Perché se Come ho detto Poco fa In campo oggi C'erano nove Undicesimi Ragazzi Che erano con noi Da agosto Una salvezza Di questo tipo Ti porta via La vita Notte insonni E tutte E tutte le sofferenze Del caso Forse Che non ho mai Vissuto nella mia vita Insomma Però La determinazione Era così ampia Così forte L'obiettivo Era così chiaro Che comunque Non abbiamo mollato Un centimetro Io ogni giorno Credo di essergli Stato anche antipatico Soprattutto al direttore Qui a fianco Perché cercavo Di inventare qualcosa Che magari Non esiste nel calcio Cioè il tema era Come possiamo far meglio Di quello che già Stiamo facendo Questa è la domanda Che tutti i giorni Ci siamo posti Per circa 100 giorni Andiamo a giocarci Anche la partita Di Chievo In modo serio Di importante Non regaliamo nulla Cerchiamo di far tre punti Anche a Chievo Perché credo Che anche quello Rientri nel concetto Di soddisfazione nostra In passato Ho visto squadre nostre La prima stagione Che dopo che si sono salvati Hanno mollato E perciò ho perso Tutte quante le gare successive A me non piace questo E penso che non sia Neanche corretto Che venga fatto In questo modo E questo era Sintetizzando un po' Sintetizzando un po' Quello che rappresentava Come giocatore sul campo Lui è come allenatore Un sanguigno Uno che corre Generoso È uno Un allenatore Che comunque sia È coinvolgente È un punto di riferimento D'altronde È stato capitano Del Palermo È stato capitano Dell'Ascoli Quindi la fascia Non è che si prende Così a caso Se non hai determinati Tipi di peculiarità Di caratteristiche Caratteriali E lui Le trasmette In un modo Affascinante Perché a me Mi ha affascinato Quell'anno Che è arrivato a Iesi Che purtroppo È culminata Con la retrocessione E poi il ripescaggio Poi Con la vittoria Del campionato Ad Arzignano Con i playoff Guadagnati Poi interrotti Tramite Covid Da Arezzo E stanno Con la salvezza Della Vispesaro Perché tu ben sai Che comunque sia Subentrare A un progetto Già iniziato È molto difficile Lui È uno che si è calato Nella parte Abbandonando qualche volta Il suo credo Per il benessere Della Vispesaro Cioè nel senso Cercando di costruire Quel vestito Che era adatto Per la rosa Che avevamo a disposizione Quindi magari Essendo meno Di fioretto Meno lezione Braziosi Ma più Magari Di Guerriglieri Più guerrieri All'interno del campo Che poi Rappresenta un po' Il suo spirito E rappresenta anche un po' Quello che serve Praticamente in serie C Probabilmente in questa categoria Io se lo chiedo a Guerrini Amadori So che glisserebbe La risposta Allora Cambio un po' I termini Se dipendesse Da Di Donato E Bedetti Restereste a Pesaro? Allora Il mister ha già dichiarato Che comunque sia Pesaro ci ha accolto In un modo fantastico Ci troviamo benissimo Nella città di Pesaro La vis Pesaro Ha una fortuna enorme Che prima Ha detto Guerrino Che ha un grande presidente E questo Oggigiorno Nel panorama Della serie C È difficile trovare Un grande presidente Che stia vicino L'ha detto A più riprese Il mister Che gli piacerebbe Comunque sia Proseguire il percorso Però Comunque sia Oggi La realtà dei fatti È che la vis Pesaro Ha Un grande vantaggio Rispetto a tutte le altre Che ha un grande presidente Sono Un po' Ripetitivo Da questo punto Ma guarda Che non fai male Perché ripeto Non è semplice Non è per piageria Perché comunque sia In questo momento Non nascondo Che anche altre società Comunque sia Hanno buttato l'occhio Sul Sul mister Per un po' Il percorso Che ha fatto In questo momento È naturale Che da parte nostra Ci sarebbe La volontà Però Senti Cambiamo un attimo Argomento Perché sono anche partite Le finali Della Supercoppa di Ciglier Il Perugia Lo ricordo Ha battuto il Como 2-1 Ora Ilariani Attenderanno la visita Della Ternana Per chiudere poi Con il Superderby Al Liberati Proprio tra la Ternana Ed il Perugia Il 22 maggio Quanto secondo te Daniele L'ha vinto il Perugia A questo campionato Quanto l'ha buttato via Il Padova E condividi il mio giudizio Voi l'avete affrontato A sette giorni fa Che nei playoff Il Sud Tirol Sia Io credo davvero Un osso molto molto duro Da rodere per tutti Se ti posso dire Il campionato L'ha buttato via Il Sud Tirol Ah tu hai questo Perdendo a Trieste Nel senso Perché comunque sia Nel percorso Che hanno fatto Entrambe le squadre Il Perugia È stato il Perugia Il Padova Ha avuto una flessione Alla fine Che comunque sia Nell'arco di un campionato Ci può stare Il Sud Tirol Ha avuto un match point Mostruoso A Trieste E poi Sono tre Tre società Che comunque sia Hanno allestito Non una rosa Non un undici titolare Ma ne hanno Due virgola cinque Di giocatori titolari A disposizione Il Padova Può recriminare Che è stato sempre in testa Dispace quello Il Perugia Ha inseguito sempre Però ha dimostrato Costanza E soprattutto Fra le tre Quella che a me Che comunque sia Faccio anche il match analyst Per il mister È piaciuto molto di più Come gioco Il Perugia Verino Tu che pensi? Non cambierei una virgola Di quello che ha dichiarato Perché sono d'accordissimo Il Sud Tirol Era la squadra Secondo me Sì Che Poteva essere La regina Diciamo Il Perugia L'ha vinto anche Un po' di mestiere Un po' di esperienza Un po' di Ci ha messo un po' Di tutto questo Diciamo Nello sprint finale Però il Sud Tirol Ha buttato via lui A Trieste So che non mi amerete Per questo Però è una domanda Sui vostri cugini Ve la devo fare Come vedete Questo doppio confronto Con l'imolese Io penso che l'alma Abbia qualcosa in più Ti rispondo Diplomaticamente? No no Assolutamente Mi sbilancio Non mi interessa Io ti fofano Io ti fofano Perché Sai le conseguenze Mi 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 aspetteranno Al casello Dell'autostrada Stanotte Però ti fofano Perché il derby È il derby Ragazzi Cioè Il derby È il derby Andare a Imola Non voglio togliere Niente all'Imola Però voglio dire Non è la stessa cosa Vincere a Imola Vincere a Fano Non è la stessa cosa A Fano hanno fatto Un bel campo Un bello stadio Le luci hanno montato Adesso che sono tutti pronti No Il Fano deve rimanere lì E dobbiamo continuare A giocarci i derby E mi assumo La responsabilità Di quello che dico Di sana passione Di sano divertimento Noi stiamo costruendo bene Lavorando bene Oh cominceremo Perché nella classifica Dei derby Noi siamo un po' indietro Allora dobbiamo recuperare E se ci va via Il Fano Noi facciamo Dai assolutamente Ti assumi le responsabilità Di quello che vedi Mamma mia Quando uscirò dall'autostrada No ma D'altronde è veramente Uno dei derby più caldi Dell'intera regione Però vabbè A Daniele Beretti Devo chiedere un giudizio Un pochino più tecnico Secondo me L'Alma ha qualcosa in più Però certo Parte anche con lo svantaggio Del doppio pareggio Che salverebbe Limolese Allora Limolese è stata Un po' Il campionato di Limolese Un po' Le montagne russe C'erano periodi In cui vinceva Due o tre partite Poi ritornava A pernere due o tre Senza motivazioni Quando noi L'abbiamo affrontata Era una squadra La scarica Tra virgolette Noi eravamo troppo vogliosi In casa Di raggiungere l'obiettivo L'Alma Quando l'abbiamo affrontata L'ho visto Più equilibrata Con l'arrivo di Tacchinardi Forse anche per l'entusiasmo Che ha portato Il nuovo mister E È difficile dirlo Anch'io Spero che il Fano Rimanga in categoria Ma soprattutto Ricollegandomi Alla domanda dell'inizio Della Coppa Italia Fuori quelle Se ci togliamo Anche queste belle partite Assolutamente Assolutamente Solo per quello Assolutamente Insomma Il sale Veramente Del calcio Oggi Come diceva Andrea Sottile Alla vigilia di Chievo Ascoli Domani alle 14 Sentiamo l'intervista 24 Ricordo i giocatori convocati Non c'è Il difensore Avlonitis Parte regolamente Saric Ma probabilissimo Il turnover E allora sentiamo L'allenatore bianconero Proprio Con un piede sul pullman Praticamente prima di partire Per la trasferta Di Verona Contro il Chievo Di domani Abbiamo fatto secondo me Qualcosa di straordinario Un grandissimo lavoro Quindi un obiettivo Raggiunto Addirittura Salvandoci direttamente E con una giornata di anticipo Penso che Sia qualcosa di straordinario Ma sì Diciamo che L'intervista Diciamo Pre gara Non la facevo anche Per cercare di Di mantenere più alta La concentrazione Di non dare Nessun tipo di indicazione A nessuno E poi c'è stata questa Questa cosa della scaramanzia Però Ha portato anche bene Quindi Va bene così Adesso siamo un po' più Un po' più sereni La facciamo E andiamo a Chievo Per chiudere in bellezza Perché comunque È giusto così E Vogliamo Abbiamo fatto una rincorsa Incredibile E l'ultima giornata Vogliamo centrare La vittoria Andiamo per Per andare a chiudere Il nostro campionato A 47 punti E onorare Fine in fondo La professionalità Ma è chiaro che L'ultimo periodo Soprattutto è stato Molto logorante A livello A livello Mentale Soprattutto fisico Qualche giocatore È chiaramente Arrivato al limite E sicuramente Farò qualche 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 rotazione Chiaramente anche Di qualche ragazzo Che ha giocato meno Penso che abbia Giustamente La possibilità Di Di giocare Di fare Fare vedere I propri valori Una partita vera Perché comunque Loro hanno Un obiettivo Ancora da consolidare Noi Te l'ho detto prima Andiamo a giocare La nostra partita Perché è giusto così Perché Dobbiamo Assolutamente Finire in bellezza Quindi sarà Una partita vera Come giusto che sia Giocata A 100 minuti Dal primo Fino all'ultimo E come sempre Poi il campo dirà Chi è migliore Noi Puntiamo Soprattutto A onorare Prima di tutto La professione Quello che Quello che facciamo Tutti i giorni E poi Sarebbe bello Chiudere con Se vittorie Sarebbe qualcosa Di straordinario Lavi Spesaro Non si ferma Perché l'estate È molto intensa Guerrino E abbiamo Letto anche Un progetto interessante Che avete Che è quello Dei camp Grazie Una bella Soddisfazione Questa domanda Per me Perché L'abbiamo pensata Insieme ad altre Iniziative Che purtroppo Per la questione Del covid Non siamo potuti Non abbiamo potuto Realizzare Un po' Una serie di azioni Di marketing Che riguardavano I tifosi Riguardavano I nostri sponsor E soprattutto Il camp Un camp Particolare Un camp Che viene fatto Per la prima volta Nel terreno Di gioco Del benelli Sull'erba Un camp Che darà spazio A tutti gli altri sport Quando l'abbiamo pensata Insomma Sei sicuro Proviamoci Poi vediamo Non c'è stata Una società pesarese A pesaro Si fanno Tutti gli sport Non solo Il motociclismo Ma tutti gli sport A tutti dei grandi livelli Ricordo 4-5 anni fa Vamo otto squadre In serie A Nelle varie discipline Tutte le discipline Tutti questi Presidenti Rappresentanti Responsabili Delle società Hanno aderito Al progetto Che consiste Nel partecipare Dedicare Una giornata All'interno Della settimana Dove si può praticare E si insegna Basket Dove si insegna Football americano Dove si proverà A tirare con l'arco Il tiro con l'arco Uno sport olimpico Che a pesaro E gestito Addirittura Da due società E tutti gli altri Palla volo Non so Il rugby Hanno aderito Sì E poi anche il baseball Maschi Femmine Da 4 anni 3 4-5 anni Fino a 12 anni Divisi in gruppi Secondo tutte le procedure Che verranno rispettate Dei protocolli Covid E quindi c'è la possibilità Ci sentiamo Questa responsabilità sociale Di entrare Nelle case Dei pesaresi Per portare fuori Questi bambini Per dargli un po' Di ossigeno Di ossigeno Di aria Non nel sintetico Quindi niente Niente numero chiuso Tutti possono partecipare No A un certo punto Dovremmo fermarci Proprio per le restrizioni Covid Però ecco È un segnale Che vogliamo dare Alla città Dove Si possono imparare Anche a giocare Altri sport Non necessariamente Il calcio Poi un bambino Può benissimo Rimanere a parte C'è anche la danza Anche la danza Sempre maschile Femminile Per cui uno può riscoprire Determinate Passioni Curiosità E soddisfazioni E quindi Alla fine del camp Si potrà iscrivere Dove vuole Allo sport che vuole E nello stesso tempo Non vuole essere Una concorrenza Alle altre società Di calcio Perché noi Le prenderemo Un numero limitato Non è che possiamo Prendere a tutti E fare man bassa Ognuno avrà La sua quota parte Non entreremo Nelle case di nessuno Nei campi di nessuno Poi ognuno È libero Di potersi iscrivere Alla società Sotto casa Non faremo Del terrorismo Per accapararci Tutti i bambini Per poter Un po' come succedeva Da altre parti Non a Pesaro Quindi diciamo Che l'obiettivo È scoprire Le attitudini Dei giovani Scoprire le attitudini Dei giovani Ridare dopo questo periodo Di grande difficoltà Per Il covid La possibilità Di ragazzi Di lasciare un pochettino A casa Il computer Il telefono Di trovare il piacere Di stare all'aria aperta Di fare le capriole Ci sarà l'angolo Con l'acqua Con la piscina Per dire Per cui giocheremo Anche ci divertiremo E gli impianti Saranno coinvolti Gli impianti Sono quelli Del Tonino Benelli Perché ancora gli altri Non sono cominciati i lavori Cominceranno Poi vedremo Con il da farsi Con i prossimi anni Se tutto va bene Ovviamente Periodo 7 giugno Cominciamo E finiamo Il 30 luglio Insomma 7 giugno Ci siamo Ci siamo Sì sì è tutto pronto Allora andiamo a vedere Invece il servizio Sul match Giocato oggi pomeriggio Al Tubaldi Parliamo di serie D Tra Re Canatese E Campobasso Come detto è finita 0 a 0 Punteggio che direi Ha rispecchiato Quello che si è visto in campo Ci hanno messo Cuore Grinta Volontale Due squadre Ma di occasioni Ce ne sono state davvero Pochine Vediamo Caldaia sicura Riprendono gli accertamenti Agli impianti termici In base alla normativa vigente Gli impianti termici Devono essere sottoposti Al controllo di efficienza energetica E ad una regolare manutenzione Se un impianto termico Non funziona bene Ci sono grossi rischi Per la sicurezza delle persone E per la tutela dell'ambiente Un impianto efficiente Permette di risparmiare Fai la manutenzione periodica Della tua caldaia Metti al sicuro Te e la tua famiglia E non incorri In spiacevoli sanzioni Rivolgiti subito Al tuo manutentore di fiducia La tua sicurezza È il bene più importante MPSPA Meglio E prima La volontà non è mancata Il dinamismo Le due squadre ce l'hanno messo Ma spazi bloccati Difese attente Nessuna prudezza individuale Pochissimi errori dei singoli Comunque non decisivi Morale Non poteva che finire A reti inviolate Tra le canatese e campo basso Ed in fondo Il risultato non dispiace Ed è la fotografia Quasi perfetta Di quello che si è visto in campo Per carità Il ritmo c'è stato Ma di occasioni davvero pochine Frutto di qualche spunto episodico Tra l'altro I due allenatori Hanno dimostrato Ed aver preparato L'incontro alla perfezione Conoscendo gli avversari A menadito E neutralizzando Quelle che potevano essere Le fonti del gioco Più pericolose Insomma Qualche fiammata E niente più E da qui in avanti Ognuno cercherà di perseguire I propri obiettivi Giovanni Pagliari Allenatore della Re Canatese Abbiamo provato in tutte le maniere Perché Logicamente abbiamo Dovuto anche Difendere Chiudere gli spazi Però i ragazzi Sono stati incommiabili Con un caldo Veramente Pesantino Però abbiamo Combattuto fino alla fine Abbiamo avuto l'occasione Anche con Luca Un paio di tiri Dalla distanza Non ci sono state Grandissime occasioni Da golle Però sicuramente Sicuramente Una buona gara È un momento Che stiamo facendo bene Sicuramente Sarebbe piaciuto Seguitare la striscia De vittorie Però bisogna essere Anche lucidi E non essere Troppo presuntuosi Perché la squadra Sicuramente Che abbiamo incontrato Non era il Porto Sant'Elpidio Con tutto rispetto Il Porto Sant'Elpidio Questa è una grossissima squadra Che vincerà il campionato E noi sia all'andata Che perdiamo Su un calcio d'angolo Alla fine E sia oggi Siamo stati alla pari I ragazzi Per me sono stati bravissimi Hanno dato tutto Anche i giovani Che sono entrati Alla fine Alessandretti e Guercio Hanno fatto molto bene Perciò di questo Sono molto soddisfatto Cronaca in pillole Decimo del primo tempo L'attivissimo Ladu Lavora un buon pallone A limite Appoggia per Cogliati Diagonale Che sfiora il palo Lontano dalla porta di Amadio Diciassettesimo Verticalizzazione di sbaffo Per un Liguori Che sembra indiavolato Creando molti problemi A Van Zand Evitato dal mazzi Con un sombrero Conclusione però Fuori misura I molisani insistono Sulla sinistra Approfittando dei problemi Di Togolà Lungo lancio di menna Per Cogliati E la botta del centroavanti Da posizione defilata Termina non lontanissimo Dai pali Al ventottesimo Ancora Cogliati Va via sulla fascia Cross basso E teso per Vitali Che anticipa tutti E sfiora di un soffio Il vantaggio Poi più nulla Sino all'intervallo Stesso Copione Con pochissime varianti Nella ripresa Affiola la stanchezza I crampi Fanno vittime Prima Donzelli Poi Candellori Ed allora ci si affida Alle forze fresche Ventottesimo Senigalliese Appena entrato Si fa notare Per un bello spunto Che costringe Raccichini Ad una respinta Tutt'altro che semplice Di Domenico Antonio Al trentunesimo Tocca il suo primo pallone Smarca Vitali Che solo davanti a Rema Maddio Conclude in maniera Non irresistibile Ed il portiere giallorosso Se la cava di piede Trentatresimo Ancora Senigalliesi Da lontano E stavolta come si suol dire La sfera fa davvero La barba al montante Non succede più nulla Le squadre si adeguano Ed in fondo Per tutti Va bene così Mirko Cudini Allenatore dei Molisani Che sapevamo che era difficile Quindi La recanatese Proprio nel suo DNA Negli anni di Serie D Ha sempre fatto organici importanti Quindi Quest'anno ha avuto L'incommenza Di fermarsi per il Covid E quindi Ripartire strada facendo E quindi ha perso terreno Però Ha una formazione importante Una rosa importante E non era facile Far punti qua In questo momento Della stagione Per quanto riguarda loro Quindi Venivano tre vittorie consecutive Noi sappiamo Sappiamo la nostra forza Abbiamo cercato di fare La partita anche oggi Qua Speravamo di portarvi A bottino pieno Non ci siamo riusciti Però un punto Alla fine Guadagnato E visto i risultati degli altri Usare qualcosina in più Forse a volte Bisogna avere anche Le caratteristiche per usare Noi oggi eravamo Senza Esposito E senza Rossetti Due giocatori importanti Nel reparto avanzato Quindi Avevamo poche alternative In panchina Avevamo deciso di non partire Con Di Domenico Antonio Dall'inizio Per averlo poi a strada facendo Però ecco Altre alternative Per poter Incidere Incidere sulla partita E cercare di usare qualcosa Non avevamo Quindi La partita da fare Sapevamo che era questa Altre E tra poco Vedremo anche il servizio Sulla vittoria Del Matelica Che accede al secondo turno Dei playoff Di Serie C Girone B Dopo il successo Contro la San Benedettese Noi Daniele Ci siamo un po' Finiti gli aggettivi Per il Matelica Voi gli avete reso La vita dura Perché adesso Mi viene in mente Che gli avete tolto Praticamente Quattro punti Perché avete vinto Al Benelli Avete pareggiato All'Elvia Recina Questa è una squadra Però che non finisce Di sorprendere Gioca con animo leggero E potrebbe togliersi Secondo te Anche altre soddisfazioni Ma secondo me Loro hanno già Ampiamente centrato L'obiettivo Che si erano preposti A inizio stagione Quindi arrivare A questi A questo livello qua Vincere poi Un turno di playoff E accedere Al successivo turno Ci arrivano Con spensieratezza E chissà Che comunque sia Anche perché C'hanno tre Là davanti Che mi sembrano Che si divertano A fa gol Beh insomma Voi avete mandato In gol Tanti giocatori Il Matelic Ad avanti Con Moretti Leonetti E Volvicelli Insomma Veramente Forse di altra categoria Mi Azzardo a dire Sì Soprattutto La scoperta Leonetti Che comunque sia Magari Non è che avevano fatto Non so Adesso Nella loro carriera Avevano fatto Esperienze di serie C Importanti Però trovare Due giocatori Che il primo Primo anno Hanno un impatto Così importante E poi Secondo me La bravura Anche del mister Colavitto Che comunque sia Sta dimostrando Quel che si dice bene Assolutamente C'è l'impronta Dell'allenatore Diamo un'occhiata Invece a quello Che sarà il prossimo Turno della serie D Si giocheranno le gare Della ventinovesima giornata Domenica 16 maggio E con le quale partite Monte Giorgio Porto Sant'Elpidio San Nicolò Notaresco Cinzia Albalonga Atletico Terme Fiuggi Pineto Aprilia Real Giulianova Castelfidardo Re Canatese Olimpia Agnonese Rieti Campobasso Tolentino Castelnuovo Manovastese E Matese Vasto Girardi Quindi sarà Una giornata caratterizzata Dai due derby Quello del Fermano Tra Monte Giorgio Porto Sant'Elpidio E Castelfidardo Re Canatese Che è più che un derby Direi quasi È una stracittadina Ed è anche in palio Una fetta importante Per cercare di raggiungere I playoff Prima però Mercoledì Si giocheranno Quattro partite Di recuperi Anche se debbono Essere confermate Comunque Almeno sulla carta Dovrebbero disputarsi Porto Sant'Elpidio Rieti Re Canatese Olimpia Agnonese San Nicolò Notaresco Montegiorgio E Vastese Castelfidardo Questo almeno Da calendario Siamo in conclusione Della prima parte Della nostra trasmissione Un'ultimissima battuta Con Guerrino Amadori È possibile tracciare Quelli che saranno Gli obiettivi Della Vispesaro 2021-2022 Almeno a grandi linee Se ne avete parlato Con il presidente Bosco Ma credo di poter dire Correggimi se sbaglio Che sarà una squadra Ambiziosa Che avrà l'obiettivo Di soffrire meno Risposta esatta Niente da aggiungere Niente da togliere Niente da togliere Sicuramente Grazie Guerrino Amadori È sempre un piacere Averti con noi Direttore affari generale Della Vispesaro Grazie in bocca al lupo A Daniele Bedetti Vice allenatore Della Vis Con un saluto anche A Daniele Di Donato L'allenatore In primis Della formazione Bianco-Rossa Noi ci rivediamo Tra pochissimo Ovviamente Con Giuliano Cubinelli Parleremo ancora Molto diffusamente Di Serie D Parleremo con il servizio Di Lorenzo Ottaviani Del derby tra Matelica E San Benedettese Che si è chiuso Praticamente alle 19.30 Quindi non molto tempo fa E chiaramente Punteremo le nostre attenzioni Sulla quinta giornata L'ultima del girone di andata Del campionato di eccellenza A tra pochissimo Cari amici e cari amiche Delle Marche nel pallone Buonasera Ben trovati E benvenuti A questa seconda parte Del nostro programma Che accade Avviene E a campionato di eccellenza Attivo Operativo Vivo Vivido In qualche caso Anche vivace Oggi Quinta giornata Di campionato Fine del girone Di andata Fa un po' strano Fine del girone di andata Dopo 5 partite Di solito Eravamo abituati Alla 13 15 17 partite Per terminare Un girone di andata Adesso Nei tempi di covid In sostanza Bastano solamente 5 partite Per dichiarare Concluso Un girone di andata Oggi Come già detto Fine del girone di andata Domenica prossima Si comincerà Con il girone di ritorno Ma oggi Intanto Prima di cominciare Auguri a tutte le mamme del mondo Compresa la mia Che si chiama Carla Quindi vediamo insieme I risultati E cosa è successo In questa ultima giornata Del girone di andata Del campionato Barra torneo Di eccellenza Perché è il caso di iniziare A tirare qualche piccola somma Anche sommaria Ma comunque Qualche piccola tendenza Cominciamo dal girone A Campione del girone di andata È il Fossombrone Fossombrone che oggi In casa Batte 2 a 1 Una delle squadre più accreditate Alla vittoria finale Del torneo Ovvero la Vigor Senigallia Fossombrone che va in rete Con Conti Aguzzi Il solito Il solito Denni Carzetti Per la Vigor Senigallia A corso alle distanze Ma finisce 2 a 1 Per il Fossombrone Che appunto Vince Diciamo Il platonico titolo Del girone di andata All'altra partita Altre due partite L'Atletico Gallo col Bordolo Torna alla vittoria Battendo 1 a 0 Di misura la Iesina Gol di Simone Rizzato 0 a 0 invece Nel match Tra Montefano E Anconitana Per una classifica Che recita Così Forza Impronese 12 Anconitana 10 Atletico Gallo col Bordolo 8 Vigor Senigallia 5 Montefano 3 Iesina 2 Passiamo al girone B Girone B C'era il big match oggi Si giocava a Sant'Egidio Alla Vibrata Dove gioca L'Atletico Ascoli Partita L'Atletico Ascoli Che ha assaporato Il gusto della vittoria Fino alla fine Grazie al gol Dell'inossidabile Daniele Filiaggi Però L'ha solo assaporato Non l'ha gustato Completamente Perché addirittura Al 94esimo La San Giustese È riuscita a raddrizzare E soprattutto a pareggiare L'incontro Con un altro inossidabile Ovvero Massimo Ganci Dopodiché Altre due partite Il Valdichianti Ponte Torna la vittoria Torna capolista Solitaria Battendo Regolando E battendo All'inglese 2 a 0 Il Grottamare Grazie alle reti Di Palmieri E Giri Valdichianti Ponte Come già detto Poi lo dirò dopo Campione del girone Di andata L'ultima partita È un altro 0 a 0 Tra Atletico Azzurra Colli E Portodascoli Per una classifica Che dice quanto segue Valdichianti Ponte 10 punti Girone B ovviamente Quindi campione del girone Di andata Dopodiché San Giustese Atletico Ascoli 9 Portodascoli 9 Grottamare 4 Atletico Azzurra Colli 2 punti Ne parliamo diffusamente Di questo campionato Di ciò che è successo In questa ultima giornata Del girone di andata Con Una squadra Che è tanti anni Che frequenta Questa categoria Con una squadra Che è tra le più Datate Antiche Lo dico In maniera gloriosa Del calcio Nostrano È stata fondata Addirittura Mi sembra Nel 1899 Quindi non nel secolo scorso Due secoli fa Se vogliamo essere precisi E sto parlando Del Grottamare Che oggi È qua rappresentato Da Federico Porfiri E da Michele De Panicis Intanto grazie di essere con noi Grazie a voi Buonasera Quest'oggi non mi dimentico Di te Sara Ti saluto immediatamente Ho fatto solo Ho fatto solo un po' Ho temporeggiato Come dicevano Ho fatto il temporeggiatore Ma grazie di essere con noi E sei perfettamente in tono Con i colori Stasera siamo anche in tinta Esatto Vai fa i pandan Con le divise sociali Del Grottamare Tra poco Poi Voi non lo vedete Ma lo vediamo noi Interverrà anche Un altro giocatore Del Grottamare Di cui Di cui non vi svelo L'identità Perché è una sorpresa Però Però Sara Devo Prima di parlare Del Grottamare Voglio Non solo devo Ma voglio ringraziare La dirigenza E l'anatore Del Grottamare Con cui è stato davvero Un piacere Interagire E parlare di calcio Durante la settimana Sto parlando Del direttore generale Alceo Galiet E di mister Massimiliano Zazzetta Allora Adesso parliamo veramente Di campionato Di calcio giocato Allora Federico Oggi avete Perso 2-0 In casa Dell'attuale capolista Il Valdicchianti Ponte Che è tornato Primo In classifica Lo era già stato Mi sembra Le prime due giornate Di campionato Che partita è stata? Perché poi Mi sembra che c'è Un po' di rabbia Perché è stata una partita Come è stata? È stata una partita Un po' strana Dove sicuramente Il risultato È un po' bugiardo Penso che comunque Abbiamo fatto una buona gara Condizionata Da un episodio Un po' dubbio Dopo alcuni minuti di gioco Se non erro Insomma Intorno al ventesimo Che comunque Ci ha condizionato la partita Perché Abbiamo preso un rigore Abbiamo subito un rigore Con un'espulsione diretta Quindi sicuramente Si è messa un po' in salita Chi è stato espulso? Mancini Un nostro difensore E di conseguenza Comunque la squadra Ha fatto vedere Che c'è Ha reagito Il secondo tempo Abbiamo subito ancora Un'altra volta Un'altra espulsione E quindi ci siamo ritrovati Questa volta Chi è stato espulso? Carminucci Carminucci Che diciamo È di lungo corso Un giocatore Ecco Che ha giocato anche In categorie professionistiche Nonostante ciò Comunque abbiamo avuto Diverse occasioni Anche in nove Abbiamo dimostrato Comunque che ci siamo La squadra è viva Abbiamo avuto diverse occasioni Quindi avete subito Un rigore o due rigori contro? Abbiamo subito due rigori Ah ecco Perché mi sembrava Di cui uno poi Fallito Fallito Ma al di là di ciò Sicuramente Almeno a mio modo di vedere Il risultato è un po' bugiardo Ecco Abbiamo avuto comunque Diverse occasioni Michele È davvero così bugiardo Il risultato Meritavate di più In questa partita E comunque In ogni caso Che effetto Vi ha fatto Il Val di Chianti Ponte Che comunque È tornato capolista Del girone B E sappiamo Che è la chiusura Del girone di andata Oggi no? Sì È indubbiamente Un'ottima squadra Molto Organizzata Gioca bene E diciamo che Hanno Dominato la partita Ma per Più Merito nostro Che loro Visto che Le abbiamo Concesso Gran parte del campo Essendo Un in meno Come ha detto Federico Giustamente noi Le nostre occasioni Le abbiamo avute Dovevamo essere più cinici Però è indubbiamente Una grande squadra Indubbiamente Una grande squadra Certo Oggi Ho già detto È Fine del girone Di andata Voi siete penultimi No? Ma tanto Non ci sono Le retrocessioni Io dico tanto Nel senso che Serve Come esperienza Questo campionato Serve anche per Lanciare Giocatori Giovani E anche nuovi Se uno non ha Ambizioni di classifica Perché tu Federico Si è arrivato Mi sembra Un mesetto fa Circa Insieme ad altri Giocatori Presi Tu giocavi nel Monticelli Promozione Quindi una categoria Inferiore Però altri Tre o quattro giocatori Aveva scovato Il direttore Che giocavano in Categorie inferiori No? Proprio per Darvi un Palcoscenico Un proscenio Farvi fare Una prova Per vedere Se magari L'anno prossimo Poteva confermarvi In eccellenza Chi sono Gli altri? Sì Ci siamo Siamo arrivati Un mesetto fa Io Mancini Appunto Che ha giocato Anche oggi Cursi Massaroni Ecco Siamo arrivati In 4-5 Dove giocavano Gli altri? Gli altri C'era Mancini Che era Ad Uffida E Massaroni Seronero Era A 100 buchi Quindi Sì Siamo arrivati A gennaio Cerchiamo di Stiamo amalgamando Un po' Un po' Con il gruppo E cerchiamo Di dare Il nostro apporto Sicuramente Sicuramente Cercheremo Di fare Del nostro meglio Michele Tu sei un Long time runner Dell'eccellenza Nel senso Voglio dire Gli inglesi Dicono così Ma in realtà Significa Sei un frequentatore Da tanto tempo Di questo campionato Di eccellenza Mi ricordo Ormai Quanti sono? 7-8 anni? Sei giovane? Quanti anni hai? 24 a settembre 24 sì Ma sono già 6-7 anni Sette anni sì Quanti? Sette anni ormai Sette anni Avevi 17 anni? Sì All'inizio sì Per chi non lo conoscesse È un Rapida Mezzala Diciamo Attaccante Esterno Rapido Destro È un giocatore Che piace L'ho visto giocare Diverse volte Senti Volevo dire Oggi è finito Il girone di andata Possiamo trarre Le prime conclusioni Nel senso che Avete affrontato Tutte e cinque Le antagoniste Del vostro torneo Qual è quella che Avete fatto Una impressione Un effetto Migliore Di solidità Di forza Di bravura Di tecnica Oggi comanda Il valdichi antiponte Però poi Credo che San Giustese Nonché L'atletico Ascoli Siano Squadre Toste Porto d'Ascoli Anche solo che Porto d'Ascoli È attardato In classifica Deve O accelera Oppure Nisba Sì Diciamo che Con questa Restrizione Delle squadre Essendo in cinque Tutte si sono Rafforzate È un campionato Molto difficile E come hai detto Tu Bisogna Non bisogna Mai Sbagliare Perché dopo A rincorrere Essendo poche partite Si fa molta più fatica Sì L'atletico Ascoli E la San Giustese Sono ottime squadre Ma anche il Val di Chiendi La metto La metto Allo stesso livello Il Porto d'Ascoli Anche Ma anche L'Azzuragolli Comunque Poi Ormai L'hai detto tutte Però Qual è quella Che ti è piaciuta Di più Davvero Diciamo che Il Val di Chiendi Mi ha impressionato Di più Quella di oggi Sì Anche se La San Giustese Mi ha fatto Una grossa partita Ma Diciamo che abbiamo Sbagliato L'approccio Noi alla partita La prima partita Contro la San Giustese È la prima di campionato Sì Però ecco Il Val di Chiendi Mi è piaciuto di più Rispetto alle altre Forse anche perché Adesso siamo Alla Quinta giornata Magari la prima giornata È proprio la prima Dopo un Sei mesi Di stop In sostanza Adesso Le squadre Cominciano a carburare Chi carbura sempre E va sempre al Massimo dell'acceleratore La nostra Sara Santacchi A cui cedo volentieri La scena Il proscenio E la parola Federico Invece Domanda secca Secondo te Chi è la favorita Del vostro girone Ovviamente Io penso che Che alla fine L'attratico Ascoli Possa raggiungere il traguardo Perché la vedo un po' A livello di organico Leggermente favorita Sulle altre Però ecco È una mia impressione Lo dici perché tu sei di Ascoli Perché sei tifoso Della Dell'Ascoli Oppure lo dici veramente No no Penso Sì sì No penso veramente Che abbia l'organico Nonostante comunque Fosse un campionato Un format Abbastanza breve Penso che comunque L'atratico Ascoli Abbia Abbia dei cambi Che magari altre squadre Hanno Hanno meno Cioè è una rosa Molto molto ampia Pensavo l'altra volta Ne stavamo parlando poi Anche nel gruppo E Anche contro di noi Le sostituizioni Avevano fatto cinque sostituzioni Ma comunque avevano In banchino In tribuna Dei giocatori Che giocherebbero In qualsiasi altra squadra E invece Avete dato un'occhiata Anche al girone A Oppure no Non vi interessa Sì no no Stiamo dando un'occhiata Perché Com'è giusto che sia Insomma Perché comunque I campionati sono Sono due gironi diversi Ma paralleli Diciamo Tra di loro Io penso che Blasone dell'Anconitana A mio A mio personale giudizio Penso che Che alla fine Possa 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 fare Questo salto di categoria E anche Ecco la piazza Penso che Penso che meriti Questo salto di categoria Sì sì Michele Anche tu Che ho già detto Tu hai tanti anni Che frequenti Il campionato Che giochi Nel campionato D'eccellenza È vero È vero che voi Siete nel girone B Però Un'occhiata al girone A Sicuramente Ce lo Ce lo buti No Sì Intanto Fossombrone Ha 12 punti Praticamente Non ha mai pareggiato 4 vinte E una persa Ma soprattutto È capolista Solitaria Per te è una sorpresa O no? Diciamo che Sulla carta Ti dico subito Che qualcuno dice Che non è una sorpresa Ma io I giornali Leggo quotidianamente Tutti i giorni Non ne parlava nessuno Prima che cominciasse Il campionato Ecco esatto Penso sia ben chiaro Poi Esatto Diciamo che Sulla carta Magari partono Favorite altre squadre Però Dopo In campo Sono 11 contro 11 E Diciamo che Fossombrone Sta dimostrando Di essere un'ottima squadra Noi abbiamo affrontato Solo La Vigor Senigallia E La Iesina Mi sembra E la Vigor Senigallia In casa loro Dopo la partita Mi ha fatto Un'ottima impressione Ha grandi giocatori E Secondo me Può fare molto bene Poi le altre Ecco Non avendo raffrontate Non sono Però le ha affrontate Lo scorso anno Perché anche Il Fossombrone L'Atletico Gallo Colbordo Ormai sono squadre L'Atletico Gallo Colbordo Da quello che mi ricordo Comunque ha fatto Sempre ottimi campionati Gioca molto bene Anche ha ottimi giocatori Bene o male Anche il Fossombrone Gioca molto bene Intervengo in un secondo Certo Certo Devi In realtà Questo Giuliano Te lo ricordo Eravamo stati Un po' Avamo invece Pronosticato Che il Fossombrone Potesse essere Come dire Un po' La sorpresa Del Girone A Perché il nostro Collega Claudio Marconi Lo aveva messo Addirittura Insomma Al pari Dell'Anconitana Dicendo Partendo Senza i favori Del pronostico In realtà È una squadra Che è stata Ben costruita Viene dallo scorso anno In cui Aveva vinto La Coppa D'eccellenza Per cui Noi Nei nostri studi Avevamo messo sicuramente In pole position Anche il Fossombrone Per onor di cronaca Hai fatto bene A ricordarlo Perché notoriamente Non è che sono dotato Di grande memoria Mi fa piacere Che hai citato Il collega Claudio Marconi Fine del Girone Di andata Sono state giocate Solamente 5 partite Adesso La domenica prossima Ci aspetta La seconda parte Del campionato Dove Ovviamente Qui Non ci sarà più Proprio La gara Di appello Perché L'andata Già sono poche Partite Adesso c'è Il ritorno Altre 5 partite Poi Si andrà Dritti Ai playoff Anzi Alle semifinali De playoff E poi Alla finale Quindi In Oggi Quinta giornata Del girone Del torneo Di eccellenza Sono solamente 8 le reti Messe a segno Ben lontano Dal record Della settimana scorsa Quando ne furono Messe a segno Ben 17 Sono state 8 reti Equamente divise 4 nel girone A 4 nel girone B Quindi C'è parità Anche qui Anche qui Una giornata Piena di simmetrie Perché ci sono state Su 6 partite 3 vittorie E 3 pareggi Queste 3 vittorie Sono venute Solamente Tra le mura Amiche Si è sbloccata Un po' Però la classifica Dei cannonieri Che fino alla settimana Scorza portava Tanti giocatori A quota 2 Adesso si è sbloccata Perché abbiamo 3 giocatori A quota 3 1 nel girone B E 2 nel girone A Quelli del girone A Sono Massimo Conti Della Forza Empronese E Danny Carzetti Della Vigor Senigallia Che hanno siglato 3 reti Quindi sono I bomber Del girone A E Federico Palmieri Che purtroppo Per il grotto a mare Ha 3 reti Nel girone B Infatti prima Mi ricordavo Di aver detto Il solito Danny Carzetti Poi perché Mi ricordavo Di averlo già inserito Nella classifica Dei cannonieri Della Vigor Senigallia Che è nel girone Nel girone A Di eccellenza Allora Andiamo avanti con i servizi Andiamo in Serie D Andiamo in Abruzzo Esattamente a Giulianova Dove il Giulianova Ha battuto 2 a 1 Il nostro Montegiorgio Con le reti di Tedone Barlafante Che aveva già segnato Contro altre squadre Marchigiane Per i marchigiani Per il Montegiorgio Rete della bandiera Di Omiccioli Ci vediamo in servizio Poi siamo ancora di nuovo qua Con gli ospiti Del Grotta Mare Il miglior biglietto da visita È il vostro sorriso Dental City Il nuovo studio dentistico Offre la gamma più completa Di servizi e specializzazioni In ambito odontoiatrico Il dottor Pasquali Specialista in ortoniato donzia Dirige uno staff altamente professionale Che si avvale anche della consulenza Delle migliori università italiane Dental City Il miglior sorriso Al miglior prezzo Attenzione Se cerchi specialisti In ambito medico Chiama CityMed Centro medico specialistico Tanti professionisti Esperti Con esperienza Impegnati nella ricerca E nello studio Delle più aggiornate tecniche E terapie mediche Dental City E CityMed A Montecassiano Presso il nuovo centro commerciale In via Mainini 79 Giulianova e Montegiorgio Si affrontano Con un background Recende profondamente diverso Penalizzante Lo stop forzato Dal 18 aprile Dei locali Allenante La serie di recupero Degli ospiti Che si portano Dietro sette punti In tre gare Out Perini Difensore Il centrocampista Mantini Per squalifica Ma anche Cucù infortunato Mentre i giallorossi Devono rinunciare Dall'inizio Perlomeno A danno Mentre ritrovano De Cerchio Ferrini Squalificato Però c'è caso Sulla linea Di difesa Gran primo tempo Con una marea Di azioni Anche tre gol Al terzo Progressione Esemplare Di De Cerchio Che imbarazza Zizzania In duplice presa Ancora Giulianova Al quinto Gancio netto Su Barlafante Ma il silenzio Del fischietto Di Bortolussi E l'immobilismo Del collaboratore Giorgi Sono quantomeno Inspiegabili Minuto Decimo Bellancio Di Cipriani Per Barlafante Che salta il portiere Parla per Paudice Salvataggio Sulla linea Nel destro secco Di prima Intenzione Della corrente Tedone Palla Nel sacco 1 a 0 Al ventiquattresimo Contropiede Giallo Rosso Prima Massetti Poi il colpo finale Di Tipaldi Il piede Providenziale Di Zizzania Che evita Il 2 a 0 Ma il raddoppio È ritardato Di pochi minuti Pressione Di Tipaldi Su Zizzania Palla che arriva Sui piedi di Barlafante Diagonale Vincente Il doppio vantaggio Regge due giri Di lancette Fino a quando Omiccioli Disegna Una gran parabola In parabere Sul calcio Di punizione Per Mora È partita Riaperta 2 a 1 Molto agonismo Fino al termine Di frazione Ripresa Che sporca Il taccuino Al minuto 16 Quando Albanesi Lanciato da Pampano Va vicinissimo Al pari Fermato Solo dal palo Due minuti dopo Mischiona In area Fortuna Che Iridia E Rosso Blu Che non trovano Il giusto Pertugio Al 26esimo Azione break Da parte del Giulianova Con Paudice Che si desta Buona giocata Ma pessima L'idea Finale L'espulsione Di De Cerchio Per il Giulianova L'allontanamento Anche di Bitetto Dalla panchina I 6 minuti Finali E la grande Determinazione Però Non bastano Al Montegiorgio Per acciuffare Il pari Così Il Giulianova Riparte Da dove Avevo Lasciato Anche Se Con gran Fatica Eccoci Di nuovo In onda Cari amici Cari amiche Delle Marche Nel pallone Se vi mettete in visione Solamente adesso Della nostra trasmissione Stiamo parlando Del campionato di eccellenza Campionato di eccellenza Che oggi è arrivato Alla quinta giornata Su 10 Quindi capirete Che se la matematica Non è un'opinione Oggi è finito Il girone di andata Le capoliste Sono nel girone A La Forsempronese Con 12 punti Il Valdichianti Ponte Nel girone B Con 10 punti Non vi ho detto prima Dando i numeri Del torneo Gol fatti Gol subiti Il miglior attacco La migliore difesa Peggiore attacco Peggiore difesa Avevamo detto Che si potevano tirare Le prime sommarie Somme Insomma Di questo Primo scorcio Di torneo Il miglior attacco È quello della Forsempronese Che ha messo a segno 10 gol in 5 partite Complimenti Perché sono due reti A partite La migliore difesa È quella del Valdichianti Ponte Non a caso Sono le due capoliste La migliore difesa È quella del Valdichianti Ponte Con solamente due reti Al passivo Quindi ottimo Il peggior attacco È quello del Montefano Della Iesina Nel girone A E dell'Atletico Azzurra Colli Nel girone B E la peggiore difesa È quella del Montefano Con otto reti Subite al passivo Di cui quattro Incide molto Su questo dato Le quattro reti Incassate la settimana scorsa Dalla Vigor Senigallia Al Bianchelli Appunto Di Senigallia Vi ho già detto Che siamo in compagnia Dei calciatori Del Grottamare Non solo io Ma ovviamente anche Sara Eccoli qua Con la loro bella tuta Di rappresentanza Bianco-celeste Che sono i colori sociali Della società Rivierasca Che gioca allo stadio Pirani Di Grottamare Però avrete visto Che abbiamo fatto Una sostituzione Abbiamo sostituito Non per demerito Assolutamente Ma proprio per Una rotazione Federico Porfiri È uscito È entrato Ansumana Jallov Eccolo qua Buonasera Ansumana Intanto dimmi subito Tu sei infortunato Non hai giocato Ho avuto un piccolo fastidio muscolare Spero che la prossima settimana Riprendo Quindi devi riprendere Inizia il lavoro Gli allenamenti Ma ti sei infortunato di recente O quante partite hai giocato? No domenica Domenica scorsa Sono quattro anni Che sei in Italia Hai giocato praticamente Sempre a Grottamare Mi sembra una parentesi A Portodascoli Sì ho giocato con Grottamare E poi sono andato con Portodascoli E poi sei ritornato a Grottamare Sono ritornato con Grottamare Perché ti trovai bene a Grottamare È un po' Sì è come una famiglia Mi è stato lì Trovo bene Ho capito Anche a Portodascoli Ho trovato bene Però Lei è come una famiglia Però io voglio dire A tutti e due Perché qui abbiamo Due attaccanti Anche Porfiri tra l'altro Un attaccante Però abbiamo due attaccanti Ansuana Jallov E Michele De Panicis Manca il bomber Giorgio Galli Giusto? Sì Ha giocato oggi O ha infortunato? Ha giocato Quindi Porfiri non è un attaccante Porfiri non è un attaccante D'accordo ragazzi È vero Lo ammetto No perché poi ci tengono Sai come hanno tra di loro Porfiri purtroppo Non posso vedere giocare Tutti i giocatori Dell'Eccelenza Purtroppo Mi manca Mi manca Mi manca Porfiri Però è stato un piacere Mentre stava qua Con noi A che livello di forma È Giorgio Galli Perché Giorgio Galli È un po' Uno dei senior Uno degli uomini Più esperti Di questa squadra Perché ne avete Uno in attacco Giorgio Galli Uno a centrocampo Davide Traini E uno in difesa Che è Marco Mallus Giusto? Che aiuto Che valore vi dà Giocare con giocatori Così esperti Che hanno giocato Anche in categorie superiori E c'è tanto da imparare Purtroppo io l'attacco Galli mi insegna tante cose Con lui sto migliorando tanto Cos'è? A livello tattica Ad esempio cosa ti ha insegnato? Mi insegna i movimenti Anche i tempi giusti Di aspettare Perché sotto la porsa Anche c'ho tanta fretta Di attaccare Quindi mi trovo sempre Fuori la porsa O fuori gioco Quindi ultimamente Ho imparato tanto E ci sto lavorando Ti stai lavorando Volevo dirti un'altra cosa Michele Poi vabbè In estate Avete ripreso Carminucci Senti Chi ti ha sorpreso Ti ha sorpreso qualcuno Del tuo girone Qualche squadra A rivelazione Per adesso E se Nel vostro campionato Che avete Giocato fino adesso Se c'erano delle occasioni In cui potevate prendere di più Siete stati sfortunati Oppure Magari quando avete preso Magari più di quello Che meritavate Allora Rivelazioni Diciamo di no Bene o male Ogni partita Non c'è mai Questo Questa grossa differenza Di squadre Però ecco Ogni partita A sé E bisogna comunque Concentrarsi al massimo Per far sì che Si ottenga Il massimo Nella partita Che mi viene in mente Diciamo che Contro il Portodascoli Potevamo evitare Di prendere quel gol E potevamo benissimo Pareggiare Poi dopo Anche l'ultima Contro L'Azuracoli Loro hanno attaccato molto E diciamo Siamo stati più cinici Noi A fare il 2-0 E Se no La prima Ecco Il rammarico C'è nella prima partita Quella da Bio Dove è stata proprio Diciamo un po' La peggiore Che abbiamo fatto E però Ci è servito comunque Anche per capire Come dovevamo affrontare Tutte le altre partite Per far sì Che l'affrontavamo al meglio Senti Ho già detto Che tu hai tanti anni Che giochi questo campionato Riesci a Farmi E farci capire Cosa significa Giocare oggi In eccellenza Ai tempi del Covid Nel senso Intanto Quanto ha inciso Questa pausa Di circa sei mesi Cosa avete fatto In questi sei mesi Com'è stato riprendere E soprattutto Com'è adesso giocare Cioè avete paura Dei contagi Oppure Ormai diciamo Che Siete spensierati Almeno Quei 90 minuti Nel rettangolo Di gioco E si cerca Di pensare positivo Come diceva Giovanotti Ecco sì Diciamo che Bisogna pensare positivo Anche se La situazione Non è Alquando facile E Durante I mesi di stop Siamo stati fortunati Ad avere un grosso staff Alle nostre spalle Che ci ha organizzato Un grosso lavoro Per casa Dove abbiamo svolto Dei lavori a casa E poi Durante la ripresa È stato difficile Allenarsi divisi In due gruppi Fare solo i lavori Di forza Senza palla Diciamo che è stato Abbastanza complicato Però ecco Dopo La voglia di ripartire Era tanta Ci sono state pure persone Che comunque Non se la sono sentita Di riniziare Per i propri motivi Però ecco La voglia era tanta E ecco Si gioca spensierati Però c'è sempre Quella preoccupazione Che ci tiene sempre allerta Tu vuoi dire Comunque No in generale Il calcio Dico Nella società Tu volevi dire Che comunque Il Grottamare In quanto società Vi è stata Molto vicino Certo Non dobbiamo mancare nulla Perché è una società Molto organizzata Infatti vorrei anche citare A ulteriore complimenti Per la società Del Grottamare Che il Grottamare È scuola calcio elite Che è un riconoscimento Che viene dato A chi si distingue Per un livello Pedagogico Educativo E didattico Di elevata qualità Alla presenza Di istruttori Che hanno frequentato I corsi Delle scuole calcio Del settore giovanile Ovviamente Della FIGC Stai con me Sara Michele Una domanda Non semplice Ma ce la farai sicuramente Dunque Quest'anno In questo nuovo format Del torneo di eccellenza Non ci saranno retrocessioni Qualcuno Ha iniziato Come dire A ipotizzare Che vista la mancanza Di obiettivi Di alcune squadre Come potrebbe essere Quella del Grottamare A un certo punto Il campionato Potrebbe essere falsato Tu Oggi sei qui E puoi rispondere A questi malpensanti No dai Assolutamente no Diciamo che ognuno È partito Con l'obiettivo Di comunque Fare il proprio meglio E vincere Perché alla fine Il campionato è corto Le partite sono poche E può succedere Di tutto Diciamo che non c'è Noi siamo partiti Con l'obiettivo Quello di migliorare Sempre più Per il futuro Ma comunque Non ci siamo posti i limiti Quello che viene Viene E giochiamo tutte le partite Per vincere Alla fine Anche se potremmo Essere fuori Dall'obiettivo Playoff Ma comunque Non venderemo Sempre cara alla pelle Ecco era giusto Dare una testimonianza Da parte di una Delle squadre Che magari Non ha come obiettivo La vittoria Sì sì Ma tra l'altro Un'altra testimonianza La vorrei sapere Da Ansumana Perché Ansumana Ialov Non ve l'ho detto Che è Di origine Gambiana Siamo Nella Nell'Africa Guardando La cartina Dell'Africa A ovest Diciamo che sta Sulla sinistra Il Gambia Però perché Mi è venuto in mente Che in settimana In UEFA League Mister Fonseca Allenatore della Roma Ha fatto esordire Mi sono visto Proprio l'intervista Di Ebrima Darbo Che si è Ebrima Che si è Ebrima Che si è Ebrima Ebrima Che si è Che si è Ebrima Che si è Che si è Ebrima Che si è Ebrima Che si è Ebrima Che si è Arrivato in Libia Poi è arrivato In Italia Ha giocato Nel Rieti Nelle giovanili Del Rieti Ha affidato A una casa Famiglia Fin tanto che È arrivata Alla Roma Tu sei 4 anni Che Sono 4 anni Che sei in Italia Là in Gambia Già giocavi a calcio Com'è la situazione Del Gambia Sì giocavo a calcio Come Ho giocato In mia città Tipo Qua Diciamo Che in serie D Poi lì facevo Capitano Non facevo manco Attaccante Centro puntuale Come si chiamava Questa scala Tangie 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 o Tangie 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 Con la E Con la E Ah Tangie Ok Poi lì giocavo Ero capitano Poi facevo Secondo punta Poi da lì Uscivo sempre a giocare Quindi lì Andavo a scuola A giocare Andavo a scuola A giocare Bene Quanti gol segnali Tanti Tanti Qui di meno Qui di meno Qui di meno Perché faccio Fagola I miei compagni Te la sei cavata bene Ottima risposta Allora Abbiamo parlato Di Grotta a Mare Finalmente vediamolo Il Grotta a Mare Purtroppo Nella sconfitta Che oggi ha avuto Contro il Val di Chianti Ponte Ribadisco Capolista Solitare Del Girone B Di eccellenza E tra virgolette Campione Diciamo Del Girone Di andata Ci vediamo in servizio Poi siamo di nuovo qua Al comunale di Villa San Filippo Va in scena La quinta giornata Del campionato Di eccellenza 2020-2021 Girone B Si affrontano Val di Chianti Ponte E Grotta a Mare I padroni di casa Terzi in classifica A meno uno Dal primato Cercano di approfittare Dello sconto diretto Tra le due Capolisti Atletico Ascoli E San Giustese Per guadagnare Ulteriormente posizioni Dall'altra parte Il Grotta a Mare Reduce Dalla prima vittoria Stagionale 2 a 0 All'Atletico Azzurra Colli I riveraschi arrivano Qui a Monte San Giusto Con il morale molto alto A caccia del primo acuto Lontano Dalle mura Amic Del Pirani Negli schieramenti iniziali Il Val di Chianti Schiera la coppia D'attacco Palmieri Ciorno Pisciuc Nel Grotta a Mare Giorgio Galli È l'unica punta Inizio di marca locale Sempre pericoloso Ciorno Pisciuc Al secondo minuto Un colpo di testa Bloccato da palanca Un palo clamoroso Al settimo E poi una conclusione Impattata Con scarsa precisione Al quattordicesimo Insiste il Val di Chianti Pericoloso Al ventisettesimo Con Palmieri Che sfiora il vantaggio Al trentaduesimo L'episodio Spartiacque Della partita Mancini perde palla Banalmente Nel tentativo Di servire Mallus E poi commette fallo All'interno Dell'area di rigore Giudicata dal direttore di gara La chiara occasione Da rete Dunque oltre al calcio Di rigore C'è l'espulsione Per il numero due Del Grotta a Mare Si presenta Sul dischetto Palmieri Che spiazza Senza problemi Palanca È il vantaggio del Val di Chianti Ponte che insiste E realizza il 2 a 0 Al quarantesimo Con giri Lesto a concludere Una mischia Scaturita Da un calcio d'angolo Dalla destra Rotta a Mare Tramurtito Palmieri cerca il 3 a 0 Al quarantatresimo Con destro a giro Ma Palanca È attento In una fase di pieno controllo In superiorità numerica Il Val di Chianti Rischia L'arachiri Nel primo dei due minuti Di recupero Ma De Minicis Spara fuori A tu per tu Con Mallozzi Nella ripresa Proprio De Panicis Va a colpire Una clamorosa traversa Dopo tre minuti Giorgio Galli Non se la sente Di battere al volo Cerca un ulteriore controllo Ma viene recuperato Dalla difesa Di casa Sugli sviluppi Del ribaltamento Di fronte Finisce a terra Un giocatore Del Val di Chianti Ponte E c'è un secondo Calcio di rigore Che viene però Mandato alto Da Palmieri Che spreca L'occasione Del Tris La partita si chiude Definitivamente Al settantesimo Con il rosso A Carminucci Con ogni probabilità Per una frase Blasfema Pronunciata Nei confronti Del direttore Di gara Nonostante la doppia Inferiorità numerica Il Grotta Mare Ci prova ancora Al settantanovesimo Con Galli Che prova Ad approfittare Di un disimpegno Errato Della difesa Del Val di Chianti Ma c'è la puntuale Chiusura Di Armellini A salvare La porta locale Finisce 2 a 0 Per il ponte Val di Chianti Che grazie al pareggio Tra Atletico Ascoli E Sandustese Si ritrova in vetta Al girone B Mastica Amaro Il Grotta Mare Condannato Da errori E decisioni Arbitrali Controverse Sentiamo Le voci Di due tecnici Nel dopogara Mister Reggio Domenico Una vittoria Maturata Soprattutto Nel primo tempo Un bel primo tempo Giocato Su ottimi ritmi Buon possesso Buona armonia E sincronismi Anche tra i suoi giocatori Poi un secondo tempo Più di gestione Si si Analizzato benissimo Abbiamo fatto secondo me Benissimo Il primo tempo Siamo stati molto bravi A far girare la palla E a accelerare Il momento giusto Sono contento Perché comunque Era una partita Una partita difficile Perché affrontavamo Una squadra Ben messa in campo Dove ha creato Problemi A tante squadre Quindi Era una partita Che temevo Particolarmente Però è andata bene I ragazzi Sono stati bravi Dai Continuiamo su questa strada Comunque rispetto al passato La sua squadra Ha acquistato Grande esperienza Con Monserrate dietro E la coppia Visciano-Burgese Che a tratti oggi Ha impressionato Per sicurezza Sì Loro Loro riescono A creare Tanta densità Lì in mezzo Riusciamo sempre A appoggiarci A loro Quando hai giocatori Così Diventa tutto Più facile Però devo fare Complimenti A tutta la squadra Perché stanno facendo Un grandissimo lavoro Nel secondo tempo Anche con due uomini In più Ha chiesto comunque Più cinismo Più concretezza Ai suoi Che si sono un po' Addormentati In alcune situazioni Rischiando di riaprire Una partita poi chiusa Eh la paura È proprio quella Di un attimino Rilassarsi troppo Ma le partite Non finiscono mai E quindi Sì Mi sono preoccupato Perché Basta Basta Un calcio piazzato Per riaprire tutto Quindi Mi sono arrabbiato Proprio per questo Mister Zazzetta Una partita Segnata da errori Anche Da episodi Che non sono stati E decisioni Che non sono state A vostro favore Qual è la sua Interpretazione Dei 90 minuti Beh innanzitutto Io non conosco Il motivo Di certe designazioni Abbiamo arbitri Più o meno bravi Nelle marche Non credo che debba Arrivare Da così lontano Per arbitrare In questa maniera Premesso che le decisioni In realtà Non voglio giudicare Il singolo fallo Quindi il rigore Fuori area Dentro l'area Però sicuramente Non può condizionare La partita Con dei cartellini Secondo me Addirittura condizionati Proprio dalla panchina Locale Cioè L'autonomia Dell'arbitro È stata fortemente Danneggiata Oggi Noi Secondo me A prescindere dal singolo fallo Di cui non voglio giudicare Sicuramente Le decisioni Dei cartellini Delle espulsioni Siamo stati penalizzati Almeno su questo E sono convinto Che la squadra Per come mi ha dimostrato Di stare in campo In 11 contro 11 Pur soffrendo all'inizio Perché Noi ci troviamo Di fronte Il Val di Chienti Che è un'ottima squadra Del mio amico Gian Domenico Però questo Ecco Quello che è successo Secondo me Non è Solo relativamente A cosa succede Azioni Di gioco Eccetera eccetera Ma Veramente Decisioni Senza alcuna motivazione Venivate qui A Monte San Giusto Dopo una bella vittoria Dunque con il morale alto E avevate iniziato Anche la partita Nella prima mezz'ora Pur soffrendo Come diceva lei Con personalità Cercando di ribaltare È un peccato Perché probabilmente Certe decisioni Hanno poi rovinato Il gusto Un po' Della partita Sì esatto Cioè nel senso Quello che dicevo prima Non voglio giudicare Il rigore Se c'è o non c'è Io sono convinto Che di fronte a un rigore Non si debba mai penalizzare Una squadra Con espulsione Soprattutto Se il rigore È incerto Soprattutto Se il giocatore Comunque È di rincorsa Cioè Non c'è Uno sgambetto Un gol Non Insomma Un gol Levato Con un braccio Con una mano Però Sono contento Di quello che stai dicendo tu Quindi torniamo al calcio Che forse è meglio La squadra Ha espresso una buona personalità Ma lo sta facendo In queste partite Quindi Non avevo dubbi Che venisse qui In questa maniera Sapevamo di dover soffrire Ripeto Con un'ottima squadra Non sapevamo Di trovare Queste Queste difficoltà Ecco Non legate All'aspetto calcistico E tra poco Vedremo anche Il filmato Di Matelica Samb Primo turno Dei playoff Di serie C I Biancorossi Vinto appunto Dai Biancorossi Quindi dal Matelica Per 3 a 1 I Biancorossi Giocheranno Il prossimo turno Sicuramente In trasferta E dovranno Vedersela Con Cesena O Feralpi Saloma Per conoscere La data Bisognerà aspettare Le decisioni Del consiglio Direttivo Della Lega Pro In merito al recupero Dell'ultima gara Del primo turno Dei playoff Appunto Fra Triestina E Virtus Verona Rinviata Poco Proprio Ieri Insomma Nei giorni scorsi A data da destinarsi A causa di un Focolaio Covid Nelle fila Veneti Quindi Sicuramente Nelle prossime ore Sapremo Quale sarà La data Del secondo turno Dei playoff Che originariamente Doveva essere Il 12 maggio Allora va bene Riprendiamo a parlare Con i nostri amici Del Grotta Mare Adesso abbiamo operato Una sostituzione Abbiamo fatto uscire Era stanchissimo Ha preso anche una traversa Non l'avete visto Nel servizio Il nostro Michele De Panicis Abbiamo fatto rientrare Gli ha dato il cambio Federico Porfiri Che mi raccomando Non è un attaccante Una mezzale Un centrocampista Per carità E ancora con noi Ansumana Jallov Tra l'altro Sara Vedevo che Mentre parlavi La tua camicia Fa pandana Anche con la scenografia Con i colori Con i cromatismi Con i cromatismi Arancioni e celesti Della nostra scenografia Allora volevo sapere Ansumana Siamo al fine del girone di andata Domenica comincia il girone di ritorno Secondo te cosa cambierà? O meglio Cambierà qualcosa tra girone di andata E girone di ritorno? Oppure no? Cambierà tanto Il girone di ritorno Noi innanzitutto Ogni settimana Lavoriamo per vincere Andiamo Facciamo Tre allenamenti E più La rifinitura Quindi durante la settimana Alleniamo sempre per vincere E il girone di ritorno Aspettiamo tanto Io ci credo E come stiamo lavorando Anche La staff Sì lo staff Della squadra Sì Come stiamo lavorando Io Ci credo Faremo di meglio Sei fiducioso Sì Molto Federico Stessa domanda Volevo sapere Che opinioni ti sei fatto Tra del girone di andata E soprattutto Se cambierà qualcosa In questo girone di ritorno Perché Se già c'erano Pochissime prove d'appello Per quanto riguarda Il girone di andata Dieci partite Tutto il campionato Tutto il torneo Figuriamoci nel girone di ritorno No? Qui veramente O la va O la spacca O no Sì Io penso che Alcune squadre Adesso Abbiano trovato La giusta La giusta squadra Sì L'amagama La squadra Esatto E quindi Di conseguenza Sicuramente Sarà più difficile Mentre magari Le prime partite Un po' Si cerca anche Di sperimentare Di trovare Il giusto equilibrio Io penso che Adesso un po' Tutte le squadre Abbiano trovato Appunto La Diciamo Tra virgolette La squadra titolare E quindi Sicuramente Sarà un campionato Sarà un giro di ritorno Ancora Ancora più difficile Dove noi Ancora una volta Vogliamo dire La nostra Prima ascoltavo lì Dalle retrovie Giustamente Sara diceva Ma Voi che magari Adesso avete Poco obiettivi Eccetera Io penso invece Di no L'obiettivo è sempre Quello di migliorarsi E noi vogliamo Migliorarci Come squadra Come società Come società Si dimostrando Insomma Di voler dare Il giusto contributo Anche a noi Quindi vogliamo dare Proprio veramente Tanto Per questo giro di ritorno Quindi capito Ansumana Io vorrei Sottolineare Ciò che ha detto Il tuo Amico Calciatore Federico Porfiri L'obiettivo È sempre quello Di migliorarsi Ma questo accade Da quando nasciamo A quando moriamo È un processo Che non deve terminare mai È un processo Di crescita Hai capito Quindi ovviamente Tu hai fatto un grande Secondo me miglioramento Passando dal Gambia In Italia Ma dovrai ulteriormente Migliorare Ma anch'io dovrò migliorare Vale per tutti Questo Questo principio Sicuramente Un Un allenatore Che È già un grande allenatore Ma migliorerà Ma Più che altro Perché quest'anno È la prima esperienza Il vostro allenatore No? Massimiliano Zazzetta Cosa vi ha insegnato Come vi fa giocare? Io Zazzetta Mi ha insegnato Tanto Io Ultimamente Giocavo Mezzala Ho sempre giocato Mezzala E esterno alto Ma dove mi piace Di più È lì Ma lui Mi ha chiamato Mi ha detto Che tu sei una punta Ti devi fare una punta Io Sono d'accordo Con lui Quindi Mi ha aiutato tanto Ogni giorno Cerco sempre Di migliorare Cerco sempre Di Fare cose Di migliore Che Posso stare Dentro campo Mi piace Mi piace Anche come Alena Come Sta con noi Mi piace Come Dalle tue parole E dai tuoi occhi Trassù Dal fatto che vorresti dire Che ti piace anche Come persona Sembra questo Scusa se ho Interpretato Mi piace anche come persona Perché Ogni giorno Ogni volta Cerca sempre Di far crescere Ai ragazzi Anche noi Soprattutto Io che mi aiuto A migliorare Sotto Sotto la porta Di cerca sempre Di fare qualcosa Di più Federico Tu lo conosci da poco Mister Razzazzetta Cosa ti ha trasmesso Fino adesso Io il mister Lo conosco da un paio di anni Che già ci siamo sentiti Ah già lo conoscevi In passato Io penso che abbia Abbia delle idee importanti Che in queste categorie Pochi hanno Esatto Sono come dire Un po' Rivoluzionarie No rivoluzionarie Innovative Innovative Esatto Secondo me Ha un modo Di giocare Una Una visione Importante Importante Che in queste categorie Magari non trovi Non trovi Fammi un esempio Facci capire Ha un modo Di giocare Piace molto giocare Palla a terra Molto propositivo A noi ci piace molto Attaccare Con più uomini E questo Soprattutto in Italia Dove no Si tende un po' A tirare il braccio Indietro No come dire E quindi Quindi davvero Cioè io mi trovo bene Personalmente Quindi Sicuramente per noi È un'opportunità Di crescere Di crescita Da sfruttare Certo Sara Ecco Facciamo qualche pronostico Alla fine del Girone di andata Farli alla fine Sarà sicuramente Più semplice Perché in cinque partite Insomma Quindi Poi vi richiameremo E vedremo se Ci avete preso Pronostico di quelle Che saranno le Finali Vai Federico Io Per finale Intendi La squadra Vincitrice O le finali Playoff Che ci saranno Finali playoff Quindi semifinale E finale Io penso che Divertiamoci un po' Dai io faccio Io atletico Ascoli e Baltichienti Dico Per il girone nostro Ok E di là Si incroceranno Quindi con Con Gallo Atletico Gallo E no E no è Anconitano Allora Anconitano No non ce la fa Ansumana Si è aperto il dibattito Perché contro Senegalia Abbiamo No Ansumana Con ordine Chi arriverà in semifinale Girone A e Girone B Fossombrone Senegalia Nel girone A Nel girone A Nel girone B Dico Atletico Ascoli Noi Ecco Te lo stavo per dire Perché l'avevi già detto Noi Non si era sentito Io l'avevo sentito Perché sono vicino a te L'avevo sentito Perché come stiamo lavorando Io ho Tanta fiducia Di fare molto meglio Perché Ogni partita Mister Capisce Sa come affrontare Io ero stara mal Siamo pronti Di dare al massimo Allora Si Dovete essere pronti A dare al massimo Ma dovete soprattutto Accelerare Perché ho già detto Che rimangono solamente Cinque partite Quindi Se già bisognava vincere Tutte prima Figuriamoci adesso Molto brevemente Rapidamente Qual è la dote Che conterà di più In queste ultime cinque partite Per appunto Vincerle e portare a casa Il maggior numero di punti Ansumana Cerca di vincere Le altre partite Ecco Ma cosa conterà La fortuna La tecnica L'assenza di infortuni La forma fisica Concentrati La concentrazione La concentrazione Sì Va bene Federico Esperienza e tenuta fisica Perché adesso Iniziano le vere giornate Quelle belle calde Ebbè Sulla tenuta fisica Sono veramente d'accordo L'ho già detto già Da qualche settimana Forse Forse però Non tutti Sanno che Il Bayern Monaco Andiamo in Germania Il Bayern Monaco Ha vinto il suo Nono scudetto di fila Il trentunesimo In totale Solamente la Juventus Sta dietro Alla Alla squadra Bavarese Nei festeggiamenti Addirittura Sono talmente abituati A questi scudetti In Baviera Che addirittura La polizia Di Monaco Ha tweetato Nel suo account Twitter La seguente frase La competizione Della Bundesliga È scomparsa Da circa nove anni Si prega Di inviare Qualunque informazione Pertinente Al Bayern O a qualsiasi Stazione di polizia Lo dicevano Tanto per ironizzare Hanno subito Però Inviato Un altro tweet Più serio Dicendo Congratulazioni Per il campionato Cari fan Ricordate che Le regole del traffico E del coronavirus Devono Ancora essere Osservate Durante i festeggiamenti Questo Non è uno scherzo Nel Bayern Monaco Poi la polizia Tornerà Tornerà Nenni In questo Forse non tutti Sanno che Nel Bayern Gioca Kingsley Coman Kingsley Coman Ha 24 anni E penso che sia Il giocatore Più vincente Al mondo Perché appunto Come ha 24 anni Ha vinto Il Il suo Decimo Decimo titolo Decimo titolo Perché ha vinto Questi nove scudetti Con il Bayern Monaco Ne aveva già vinto Uno Con la Juventus Nel 2015 2016 Ne aveva vinto Un altro Nel 2012 2013 Quando aveva solamente 16 anni Ed era al Paris Saint Germain Oltre a tutti questi scudetti Ha vinto anche Tanti trofei Tre coppe tedesche Una coppa Italia Ha vinto La Champions League Aveva anche segnato Lo scorso anno In finale Una coppa di Lega Francesa Quattro supercoppa Di Germania Una di Francia Una italiana E una coppa UEFA Oltre al mondiale Per club Ma nonostante Abbia vinto Così tanti titoli Kingsley Coman Capita anche a lui Di poter Incappare In una Dimenticanza In una Sbadattaggine Ma che cosa salata A Kingsley Coman Perché Perché forse non tutti sanno Che lo sponsor Uno degli sponsor del Bayern È la casa automobilistica Audi Guarda caso Coman Si è presentato Agli allenamenti Con la macchina sbagliata Perché Si è presentato Con una Mercedes Quindi è stato fatto Lasciare la macchina Fuori del terreno Di allenamento Però Coman È recidivo Da questo punto di vista Perché Già l'anno prima Si è rappresentato Agli allenamenti Con una McLaren Quindi non proprio Una macchinetta Utilitaria E quindi Già aveva sgarrato Questa Evidentemente Le Audi Proprio non gli piacciono A Coman Che Proprio per queste Sue sbadattaggini È stato multato Per Una multa Di 50.000 euro Capito Anzumana 50.000 euro Per aver sbagliato Ripetutamente Macchine Parlavo di Polizia che ritornerà Sì perché È tutto collegato Ho già detto Il Bayern Vince gli scudetti Solamente la Juventus A livello europeo Tiene testa Alla squadra Bavarese Ieri La Juventus Women Ha vinto il suo Quarto titolo di fila Però succede che Questo succede in Quindi calcio femminile Succede che una calciatrice Femminile Tale Io non la conoscevo È Katrin Veie Lei è danese Ma gioca in Svezia A causa di questi Controlli per il covid Si trova appunto A prendere il treno Per andare Dalla Danimarca Alla Svezia Per fare Gli allenamenti È stata Fermata dalla polizia Chiedendo il motivo Dello spostamento E lei ha detto Io sto andando Agli allenamenti Di calcio femminile Uno dei poliziotti Gli ha risposto Anzi le ha risposto Essere calciatrice Non è un lavoro E lei Giustamente Si è stato un conciliabolo Perché si è sentita Discriminata Fintanto che L'altro poliziotto Ha detto Beh in effetti È proprio il suo lavoro E quindi Se la sono cavata Con una battuta Dicendo va bene Prenda il Treno successivo Da questo punto di vista L'Italia Almeno per una volta Per quanto riguarda I diritti relativi Alle donne Si è dimostrata All'avanguardia Contro In relazione A paesi Come già detto Del nord Europa Dove si suppone Che certi diritti Siano anche più garantiti Invece Perché in Italia Da questo punto di vista Forse siamo anche più amanti Perché Non tanto tempo fa La calciatrice Alice Pignanioli Di 33 anni Gioca nel Cesena Serie B Women Ovviamente E è tornata A giocare In campo Dopo 100 giorni Proprio perché Era in Gravidanza Per cui La società L'ha aspettata E a 33 anni Alice Pignanioli È ritornata A giocare Quindi senza Assolutamente Discriminazioni Per il fatto Della Gravidanza Ebbene Oggi è la festa Della mamma Chiudiamo Chiudiamo Proprio con Con questa Lieta Novella Lieta Notizia Di Alice Pignanioli In realtà È una Notizia di Non freschissima Ma nemmeno Vecchissima Allora Io sono contento Di aver avuto Con noi I nostri Ragazzi Del Grottamare Michele De Panicis Che adesso Non vedete L'abbiamo messo In panchina Di fianco a me Ansumana Iallov Ancora più in là Federico Porfiri Salutiamo Non sono stati con noi Ma è come se lo fossero stati Alceo Galiet Direttore generale Della squadra Rivirasca Massimiliano Zazzetta Che vedremo Prossimamente qua Nei nostri studi Ovviamente Saluto Sara E Restate con noi Perché adesso Torna Andrea Però Voglio lanciare Anzi Non lo voglio lanciare Io Voglio che tu Sara Lanci Questo Servizio Matelica San Benedettese Che Come solo tu Sai fare Perché Perché Serie C Perché era un playoff E quindi Fallo tu Beh era una sfida Sicuramente Tutta da vedere Fra due marchigiane Che si affrontavano Nel primo turno Dei playoff Di Serie C Ha vinto Il Matelica Per 3 a 1 Nonostante la Samba Non abbia reso Le cose semplici Ai Biancorossi Una Samba Che proprio in settimana È stata dichiarata Dal Tribunale di Ascoli Fallita Ma Non anticipo nient'altro Guardiamo il servizio L'autonoleggio Alidama È il leader nel settore Del noleggio a breve E lungo termine La nostra flotta È costituita Da utilitarie medie E alta gamma Per aziende Privati E professionisti Inoltre Disponiamo divano Minivan Furgoni Furgoni frigo E pulmini In nove posti Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza Nell'autonoleggio Il Matelica Si regala un altro capitolo Del romanzo Della sua strepitosa annata Superando all'Elvia Recina Per 3 a 1 Nel derby marchigiano Dei playoff La San Benedettese Accedendo così Al turno successivo Degli spareggi Promozione Per la Serie B Primo tempo È bloccato Con la Samb Che si è fatta preferire Rispetto ai padroni di casa Che sono sembrati Contratti e tesi Mentre nel secondo tempo La partita Si è sbloccata Con i biancorossi Che hanno trovato Il vantaggio Inizio ripresa Con Calcagni Grazie anche All'ingresso di Alberti Per Volpicelli Che ha portato sostanza All'interno Dell'area di rigore Poi hanno subito Un ritorno Di resso blu Che prima hanno trovato Il pareggio Poi nel finale Con tanto cuore Generosità Nonostante l'inferiorità numerica Hanno cercato l'impresa Ma senza successo Comunque Uno spettacolo davvero degno Per emozioni Gioco di un playoff Con Materica Che si regala L'ennesima serata di felicità E la Samb Che esce a testa altissima Dall'Elvia Recina Per impegno Cuore e determinazione Il Materica albia Con l'undici titolare Con Vitali Al posto di Cardinali Trepali E Magri Perzi Grossi La Samb Si schiera con il 4-3-3 Con Botta Lescano e Liporace A comporre il tridente Offensivo E Maxi Lopez Recuperato Che parte dalla panchina Inizio di gara A ritmi bassi Influenzato dal caldo Con le due squadre Che chiudono bene gli spazi Dodicesimo Si fanno vedere I rosso-blu Botta raccoglie la palla Al limite dell'area E fa partire una conclusione Che però Non crea problemi a Vitali Primo tempo Che vede il Materica Meno brillante del solito Con molti errori In fase di impostazione Con la Samb Che chiude bene Tutte le linee di passaggio Non concedendo nulla Ai bianco-rossi Al trentasettesimo Pericolosi Rosso-blu Rossi soffia la palla A Calcagni In uscita E imbuca per l'Escano Che offre la sfera A botta Il quale fa partire Una conclusione Che si perde di poco a lato Così Scorre via il primo tempo Con le due formazioni Che vanno a riposo Sullo 0-0 Di partenza Di ben altro tenore La ripresa Al terzo La prima vera occasione Il Materica Passa in vantaggio Sponda di testa Di Alberti Per Calcagni Che dal limite Dell'area Si coordina perfettamente Al volo Trovando una splendida conclusione Che non lascia scampo a Nobile Per l'1-0 locale Al decimo Occasione per la Samb Angolo di botta E colpo di testa Di Cristini Sul primo palo Con la palla Che si perde di poco a lato Undicesimo Pericolosi Bianco-rossi Leonetti Salta secco Un avversario Entra in area Fa partire Una conclusione a giro Che però Si perde alta Ripresa Che vede il Materica Più intraprendente Rispetto al primo tempo Con i rosso-blu Che ora fanno fatica A reagire Dopo il gol subito Al ventesimo Però squillo Degli ospiti Cross di botta Per bacio Terracino Che trova una bella Girata al volo Che viene bloccata Senza grossi problemi Da un attento Vitali Preludio Del pareggio Della Samba Che arriva al ventiquattresimo Botta viene chiuso Al limite Dell'area da bordo Il pallone Arriva a D'Angelo Che fa partire Una gran conclusione Che si insacca all'incrocio dei pali Dove Vitali Non può arrivare Per l'1-1 rosso-blu Gara che si fa davvero scoppiettante Al ventinovesimo Occasione per i padroni di casa Cross di Calcagni E colpo di testa di Leonetti Che però trova sulla sua strada Uno strepitoso nobile A negargli la rete Al trentaquattresimo Gli ospiti rimangono in dieci Moretti lanciato a rete E viene steso da Goicocea Per il direttore di gara E chiara occasione da gol Ed estrae il cartellino rosso Al quarantaduesimo Il calcio di rigore Che chiude praticamente la partita Fallo di mano di D'Angelo Per il direttore di gara Non ci sono dubbi E indica il dischetto Tra le proteste generali Dei calciatori rosso-blu Dagli undici metri Moretti non sbaglia Sigla la rete Che vale il secondo turno Dei play-off Al quarantottesimo I bianco-rossi Calano addirittura Il tris Con Alberti Che batte Nobile in uscita E realizza la rete Del definitivo 3-1 Matelica Che festeggia così Un traguardo isperato Alla vigilia della stagione Ma meritatissimo In attesa di conoscere Il prossimo avversario Nei play-off Mentre per la Samba La partita più importante Da ora Si gioca fuori dal campo Per sapere Quale sarà Il futuro Nella delicatissima Situazione societaria Mister Colavitto Quanta soddisfazione C'è stata anche oggi Una gara tosta E il Matelica Ha meritato Questa vittoria Hai detto bene È stata veramente Una gara tosta Diciamo che il primo tempo Un po' bloccata Ma era Prevedibile Una cosa del genere I ragazzi L'hanno sentita molto Questa partita Poi dopo il secondo tempo L'abbiamo sbloccata Potevamo fare anche Il secondo gol Poi ci siamo complicati Un po' la vita Ma alla fine Comunque Credo che la vittoria Si è meritata E i complimenti Vanno fatti a loro Un cammino importantissimo Quello del Matelica Che anche oggi In una gara secca In cui può sempre succedere Di tutto Ha dimostrato Come avevi detto bene Alla vigilia Che quello che conta Non sono i due risultati Su tre Ma è la voglia di portare A casa i tre punti Oggi i due ragazzi Ce l'hanno avuta Questa voglia Giusto Giusto Perché comunque Se giochi Pensando di portare a casa I due risultati sul tre Può capitare Che comunque Lavori bloccato Lavori frenato O sottovaluti Determinate situazioni I ragazzi Non l'hanno fatto Comunque Ci teniamo stretta S'ulteriore vittoria E vediamo adesso Chi ci aspetta E poi la prepareremo La prepareremo bene E infatti adesso Il problema è solo questo E questa attesa Che visto i casi di covid Insomma Che bloccano la Virtus Vecop Probabilmente Slitterà tutto Di qualche giorno Con ogni probabilità Però Questi ragazzi Hanno dimostrato Anche oggi Anche nel momento difficile Di sapersi rimboccare le maniche Di saper portare a casa il pane Come dici sempre tu È vero Il principio di adattamento Fa parte Del DNA Di questa squadra Quindi ci adattiamo Anche a questa Questa nuova situazione Permettimi di Di dedicare questa vittoria A Luciano Che Oggi è il suo compleanno E quindi ce l'abbiamo fatta Andiamo avanti Ed eccoci gentili telespettatori Alla terza parte Della nostra trasmissione Torniamo per un attimo A parlare di materica San Benedettese Abbiamo da poco Visto il servizio Con le dichiarazioni Del tecnico Biancorosso Gianluca Colavitto Queste invece Le dichiarazioni Di Paolo Montero Tecnico della San Benedettese Ai canali ufficiali Rosso-Blu Ai miei Ha detto il tecnico Uruguaggio Non posso dire nulla Hanno dimostrato Continuamente Di saper interpretare Certe situazioni Posso solo ringraziare La città I giocatori I collaboratori Tutto lo staff Per l'appoggio Che ho avuto E complimenti Al Mateli Che è stata la squadra Sorpresa del campionato E ha meritato Dove è arrivata Adesso grazie a tutti E vedremo Cosa ci riserverà Il futuro E vi ricordo Come ha già anticipato Sara Santacchi Senza la disputa Di Triestina Virtus Verona È impossibile Delineare al momento Gli accoppiamenti Del secondo turno Di questo girone L'unica sfida Che sicuramente Non ci sarà È quella tra Feralpi Salò E Cesena Le due Non si affronteranno Dal momento che Il Matelica Ha una classifica Peggiore Rispetto a quella Dei bianconeri Romagnoli Se nel match Rinviato Si imporrà La Triestina Allora Feralpi E Matelica Si ritroveranno Nel secondo turno Si giocherà Comunque A Salò Con Triestina E Cesena Nell'altra gara Ma se a farcela Sarà invece La Virtus Verona Allora i Veneti Andranno a far visita Alla Feralpi Mentre Cesena E Matelica Saranno una Di fronte All'altra In ogni caso Ripetiamo ancora Il Matelica Giocherà La sua prima Partita In trasferta E adesso Torniamo Al campionato Di eccellenza Andando a vedere Il servizio Di Luca Baiocco Sul pareggio 0-0 Tra Montefano E Anconitana Montefano E Anconitana Impattano Sullo 0-0 Il Comunale Dell'Immacolata Ma il risultato Non deve adrarre In inganno Il match È stato tutt'altro Che noioso E povero Di emozioni Anzi Gara scoppiettante Soprattutto nel primo tempo Per poi Ettenuarsi Un po' Nella ripresa I Viola Partono fortissimi Nei primi dieci minuti E vanno più volte Vicini al gol Al terzo Sobranzetti Lascia partire Un potente destro Che si spegne di poco Oltre alla traversa Poi al settimo Bonacci Viene imbucato Tutto solo Davanti Marcantonini Ma non riesce A concludere In maniera efficace L'estremo difensore Chiude la grande Un minuto dopo C'è il mancino Di Iachetta Dal limite dell'area Blocca a terra Il portiere L'Anconitana Col tempo Cresce E prende le misure I Viola Ci prova Al ventiquattresimo Montagnoli Dalla distanza Rocchi Blocca facilmente A terra Poco prima Della mezz'ora È la volta Di Cariota Che converge Da destra E conclude Col suo mancino Rocchi Si fa trovare pronto Poi Gionchetti Mette fuori Lo squillo Più grande Dei d'origine Nel primo tempo È al trentatresimo Al limite Marabese Si ritrova La parla Tra i piedi E da fermo Lascia partire Un mancino Violentissimo Che si stampa Sulla traversa Per poi Tornare in campo Lo stesso numero Undici Ci prova Quattro minuti Dopo Da calcio Punizione Palla Telefonata Per Rocchi La ripresa Si apre Sullo stesso piano Di ritmo E intensità Ma col passare Del tempo Le squadre Si assestano E non vogliono Rischiare Di prendere i gol Al cinquantanovesimo Marabese Calcia da limite Col destro Rocchi È bravo A respringere Lateralmente Ci prova Di testa Buoninsegni Da calcio D'angolo Al sessantasettesimo Senza inquadrare Però lo specchio La partita Si avvia sul finale Con un Montefano Guardingo E un'Anconitana Che vuole Vincerla a tutti i costi Poco dopo La mezz'ora Protesta L'Anconitana Per un gol Annullato A Marabese La sponda Di testa Di Zenga Serve Il compagno Marabese Che tutto solo Davanti a Rocchi Lo batte Con un pallonetto Ma si alza La bandierina Dell'assistente Proteste Degli ospiti Le emozioni Sono negli ultimi minuti All'ottantanovesimo Marengo Calcia dopo Una sponda Di un compagno Dal limite Alto Poi a quarto Di recupero Occasione clamorosa Per gli ospiti Trofo Dal cuore Dell'area Calcia Botta Sicura Trovando L'autentico Miracolo Di Rocchi Che smanaccia In calcio D'angolo E' l'ultima emozione Prima del Fischio finale L'Anconitana Perde due punti Rispetto al Fossombrone Ma resta comunque In scia Per il Montefano E' il terzo pari E quindi tre punti In classifica Una vittoria Che però ancora manca Sarà da ricercare Nel prossimo match interno Con la Gabolista Nella prima Di ritorno Mister Lattanzi Il suo Montefano Pareggia Redi Bianche Contro l'Anconitana Nel primo tempo Avete avuto Addirittura anche Diverse occasioni Per portarvi in vantaggio Alla fine E' più un punto guadagnato Due persi Visto come era iniziata La gara Noi innanzitutto Dovevamo riscattare La prestazione Di domenica scorsa E' questo Quello che abbiamo Ho chiesto ai ragazzi E per questo Abbiamo lavorato Tutta la settimana Il risultato Poi sì Sicuramente Giocavamo per vincere Volevamo a tutti i costi La vittoria E non ci siamo riusciti Però la squadra Ha fatto un passo in avanti Rispetto a domenica scorsa E' questo Quello che Avevamo In mente di fare Insomma Abbiamo lavorato Tanto per questo I ragazzi Si sono Uniti Hanno fatto gruppo Oggi Hanno fatto tutti Quello che sanno fare Quindi Ci è mancato Il gol E' chiaro Abbiamo anche rischiato Ma di fronte Avevamo La prima in classifica Quindi non era sicuramente L'ultima della classe Perciò la partita E' stata una buona Una buona partita Abbiamo fatto un passo avanti Rispetto a domenica scorsa Sono contento L'atteggiamento Che dobbiamo avere E' questo Noi Stiamo seguendo Un percorso di crescita Importante Oggi Tanti giocatori Hanno fatto Molto meglio Domenica scorsa E questa è la cosa Poi importante E adesso invece Occupiamoci ancora Di serie di 0 a 0 Invece nel derby Tra Porto Sant'Elpidio E Castelfidardo Porto Sant'Elpidio Che stacca L'Olimpia agnonese Che ora è sotto Di due punti Nella lotta Per evitare L'ultimo posto Mentre il Castelfidardo Resta in scia Della zona playoff Andiamo a vedere Invece il servizio Su Tolentino Matese E' finita Due a due Grandi recriminazioni In Casa Cremisi Soprattutto Nei confronti Del direttore di gara Vediamo il servizio Caldaia sicura? Riprendono gli accertamenti Agli impianti termici In base alla normativa vigente Gli impianti termici Devono essere sottoposti Al controllo Di efficienza energetica E ad una regolare manutenzione Se un impianto termico Non funziona bene Ci sono grossi rischi Per la sicurezza Delle persone E per la tutela Dell'ambiente Un impianto efficiente Permette di risparmiare Fai la manutenzione periodica Della tua caldaia Metti al sicuro Te e la tua famiglia E non incorri In spiacevoli sanzioni Rivolgiti subito Al tuo manutentore di fiducia La tua sicurezza E' il bene più importante MPSPA Meglio E prima Di nuovo in campo Dopo la sosta Al della vittoria Si ritrovano i padroni di casa Cremisi Contro l'FC Matese La liberazione del girone F Del campionato nazionale Direttanti Ospiti messi in campo Da mister Corrado Urbano Con il consueto 4-4-2 In avanti la coppia Galesio e Abreu Nella zona centrale Baroni e Massi Assistiti dai laterali Di Uovo e Langellotti Dietro estremi Riccio e Riggio Con Albanese e Cassese A chiudere centralmente Nel Tolentino Non disponibile Per squalifica Bonacchi Federico Conti Ancora non al meglio Viene portato in panchina Da mister Mosconi Al posto dello squalificato Cremisi viene impiegato Emanuele Strano Mentre avanti la formazione di casa Schiera la coppia Composta da capitane Ettore Padovani E Santiago Minella Con Pagliani A fare il playmaker Padroni di casa Che stentano a decollare Al terzo Fanno girare palla I campani Che provano la conclusione A giro con Barone Sfera che termina Sopra il montante Del portierino Cremisi Il risultato cambia Al sesto minuto Al primavera a fondo Ospite rimessa laterale Abreu anticipa Governali E Sfera che viene Inzaccata e rese Da Galessio Decimo sigillo personale Dell'attaccante Campano Sempre come in mucide Finito KO La formazione di casa Che stenta A raddrizzare la schiena Solo intorno alla mezz'ora Bella giocata Di Padovani Perucci Con quest'ultimo Che però non inquadra Lo specchio della porta Ospite Un minuto più tardi E Padovani a superare L'avversario a pettura Perminella La cui debole conclusione Non incide il suo risultato Continua nel momento Più propizio La supremazia Dai padroni di casa Padovani anticipa Un avversario Passaggio all'indietro Perucci La cui conclusione Viene deviata In angolo da Kuzmanovic Al quarantunesimo Punizione dei padroni di casa Sulla fascia sinistra D'attacco Sul punto della battuta Si porta Capezzani Pallone che arriva Sullo specchio Della porta Ospite Sembra che lo stesso Abbia superato La linea di fondo Smanacciata ancora Di Kuzmanovic Che manda la sfera Ritorna in campo Ma l'arbitro Non convalida La rete del meritato pareggio E si continua Con il vantaggio Ospite Al quarantatresimo Viene graziato di Uovu Da poco ammunito Il numero sette Ospite colpisce Volontariamente Il pallone con la mano Punizione per i padroni di casa Ma nessuna sanzione Per l'autore del fallo di mano Che a livello di regolamento Avrebbe certamente Meritato la seconda ammunizione Ripresa di nuovo in campo Con gli stessi effettivi Al secondo affondo La formazione di casa Trova il pareggio Cross di Rucci Per Strano Che riesce a mettere Sull'angolino basso Festeggiando così La sua centocinquantesima Presenza in maglia Cremisi Al decimo Sono in campania Ad essultare nuovamente Spioventi di Langellotti Torre sul fondo di Galessia E questa volta è Abreo A portare in vantaggio Gli ospiti A ruoli invertiti Sono comunque Due attaccanti ospiti A seminare Scompiglio Nell'area di rigore Dai padroni di casa La reazione dei Cremisi Viene però premiata Poco dopo Al tredicesimo Spioventi in aria Duello tra Capezzani e Riggio Con un tocco a gamba tesa Del laterale Della formazione campana Direttore di gara Concede il rigore Per i padroni di casa Con molta ma molta freddezza Ettore Panovani Spiazza l'estremo ospite E rimette così la gara Sul due a due Risultato che rimane tale Fino al novantasedesimo Nonostante la girandola Di sostituzione Con le entrambe le formazioni Che si adevedono La posta in valio E guardano avanti Per i rispettivi obiettivi Allora mister Tanta grinta Tanta buona volontà Peccato però Che non sono arrivati tre punti Tanto a base a questa Grinta volentà Giocata a calcio Benissimo Atteggiamento giusto Da parte dei ragazzi Siamo stati eccezionali A recuperare due volte Lo svantaggio Magari non andiamo a fare attenzione Sul secondo coloro Andiamo a prendere Perché ormai L'inizio da partire È tutto a favore nostro Però sono stati eccezionali Questo gruppo Non posso fare sempre A calcio che elogiarlo E ringraziarlo Per l'atteggiamento che hanno E per come sono attaccati A livello calcistico A Tolentino È un punto importante Contro una squadra Che stava in zona playoff Abbiamo dimostrato Che non siamo secondi a nessuno E ce la giochiamo Fino alla fine Ultima fase del campionato Mister ancora sei partite Il Tolentino domenica Dovrà andare in casa Della capolista A campo basso I partiti sono sette Sei più una da recuperare A Tolentino I ragazzi È una famiglia Non abbiamo mai visto Contro chi giochiamo Non abbiamo visto Contro chi giochiamo Noi abbiamo L'obiettivo importante Partita per partita Cercare di fare Punti Per arrivare Il meno tempo possibile Alla salvezza E basta Questo è un gruppo Dei ragazzi Eccezionale Che non meritano Questa tra virgolette Classifica Questa è così È un gruppo Che va soltanto Esaltato E ringraziato Se devono colpire qualcuno Meglio che colpiscono Andrea Mosconi Ma il gruppo È sacro Non lo devono toccare Meglio che Se devono colpire qualcuno Meglio che colpiscono me Perché sono io Il capofamiglia Sono io responsabile Di tutto E basta Noi dobbiamo Lottare la salvezza Poi la società Andrò a decidere Cosa fare Allora Mister Un pareggio Tra due formazioni Che hanno lottato Fino all'ultimo istante Per cercare Di capitalizzare Al massimo Sì Sicuramente Partita molto Combattuta Oggi faceva caldo Le due squadre Hanno speso tanto Secondo me Noi Peccato Che siamo riusciti Ad andare due volte In vantaggio E poi Insomma Abbiamo preso Due gol Uno Vabbè Su calcio di rigore Che onestamente Non lo so Dalla panchina Faccio fatica a giudicare Se ci fosse o meno Però al di là di questo Dell'episodio Io credo che noi abbiamo fatto Come Stiamo facendo Insomma Questo Chiamiamo il giorno di ritorno Perché Tra i vari recuperi Si gioca una partita Andata A partita di ritorno Abbiamo fatto bene Squadra compatta Che Ripartita sempre Con pericolosità Sapevamo anche Che l'avversario Aveva alcune caratteristiche Difficile da affrontare Per noi Soprattutto con una difesa a quattro Perché Loro Sugli esterni Con i quinti Spingevano molto E poi Avevano i due attaccanti Che Che giocavano sempre In funzione della porta Molto bravi L'uno per giocare stretti L'uno per l'altro Però devo dire che Che la mia squadra Si è disimpegnata molto bene Abbiamo ancora da proporvi Un servizio Di serie D Relativo alla vittoria Molto importante Della Vastese Sul San Nicolò Notaresco Successo Che un po' consegna Per certi aspetti Il campionato al Campobasso Che si porta a più sei Nei confronti Della formazione abruzzese Tutto in teoria Sarebbe ancora inabilico Ma certamente Sei punti di distacco E anche questa sconfitta Pregiudicano un po' La rincorsa Della formazione Guidata da Massimo Epifani Mentre la lotta Per i playoff È comunque molto accesa Tra Castelnuovo Matese Recanatese Castelfidardo Ma soprattutto C'è il Pineto Che sta rientrando Molto forte Ma andiamo a vedere Il servizio Appunto su Vastese San Nicolò Notaresco Mamona e Di Prisco Per gli ex di giornata I due gesti I due gesti tecnici Meritano il replay Per la prima azione Pericolosa Della Vastese Bisogna attendere Il trentanovesimo Obodo Recupera Palla E serve Martigniello L'attaccante Converge in aria Calcio sul primo palo Attento Schiba Che respinge Poi ci prova Di Prisco Con la conclusione Che non inquadra La porta Al quarantaquattresimo Altra occasione Per i padroni di casa Di Filippo Serve Mamona Che converge in aria Poi la sfera Arriva a Martigniello Che non trova la porta Di un soffio Con il sinistro E questa L'ultima occasione Del primo tempo Che va in archivio Sullo 0-0 Nella ripresa Subito pericolosa La squadra di casa Martigniello Si divora un rigore in movimento Calcianto centralmente Al minuto 8 Per Schiba Nessun problema Al tredicesimo Tripla occasione Per i terramani Punizione di a quadro Di Rienzo Non trattiene Olcese Tenta il tapin Poi la volta Di Palumbo Con l'estremo Bianco-rosso Che si supera Al ventesimo Mamona Conclude da fuori Palla di un soffio A lato Meno di un minuto E di Brisco La piazza di testa Schiba Si esalta E respinge Al ventisesimo Ancora Vastese In avanti Con una conclusione Di Monza Sul quale attento Il portiere Teramano Al trentaquattresimo Lampo Dalla distanza Di Di Brisco L'estremo ospite Blocca Al trentacinquesimo La Vastese Passa in vantaggio Con Mamona L'attaccante Scatta in profondità Rientra E batte Schiba Con il mancino Per l'uno A zero I padroni di casa Continuano a spingere Al quarantesimo Di Brisco Calcia da fuori E complice Un intervento Poco preciso Dell'estremo Teramano La palla Finisce in rete Per il 2 a zero Da qui a fine gare Dopo 5 minuti Di recupero Non succede altro La Vastese Aguanta La seconda vittoria Consecutiva E sale a quota 35 Il notaresco Sciupa molto E non riesce Ad accorciare Sulla capolista Campobasso E siamo davvero In conclusione Di questo appuntamento Domenicale Con le Marche nel pallone Vi ricordo Che questa trasmissione Sarà replicata Domani a mezzogiorno E mezzanotte Sul canale 111 E alle 20.30 Sul canale 675 Domani Ve lo ricordo ancora Alle 20.50 Sul canale 11 In diretta Da Ascoli Piceno La trasmissione Picchio Club Dedicata alla salvezza Della formazione Bianconera Noi ci rivediamo domenica Come sempre A partire dalle ore 21 Sui nostri canali Buonanotte a tutti Grazie a voi tutti Di averci seguito Appuntamento Alla prossima settimana Qui c'è la chiamata Buonanotte a tutti Qui c'è la chiamata La chiamata La chiamata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.